mi piace incredibile bentornati guardate quanto è blu e azzurro il nostro maestro Gaetano grazie mille, guardate come vi fate subito protagonisti di questa serata è un piacere, è un onore, ditemi se si sente, ditemi se si sente, si vede, ma si deforma l'audio quando urlo, ma ditemi perché non so perché ma si deforma l'audio, risolveremo abbiamo grandi cose per voi, cosa vuol dire ni? Abbiamo grandi cose tutto ok, no 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 perfetto, allora ragazzi mi è appena arrivato un messaggio succulento io adesso non voglio, io non voglio però ragazzi, allora domani abbiamo un ospite speciale che facciamo una live dedicata a playstation 1 e in generale alla realtà virtuale quindi diciamo facciamo vedere, proponiamo un po' di ciccia, ok, ma settimana prossima settimana prossima stiamo organizzando con Andrea dell'88 una bella live insieme forse sarà venerdì se mi dice di sì, non vedo l'ora bestiacci, non vedo l'ora che finalmente anche CopTV diventa qualcosa di ed è solo grazie a voi, brutte bestiacci, grazie, grazie, grazie di cuore quindi veramente, oggi sono proprio felice, sono proprio felice anche se ho mangiato del pesce scaduto e tra poco starò male stanotte non dormire ah, il pesce dove vive? vive in mezzo alla plastica, così ci dice Animal Planet comunque, sì, glielo dicevo prima al maestro, era del pesce spada che puzzava di ammoniaca quindi mi sono salvato in tempo, però lì per lì insomma, ecco, vedrete, vedrete poi vi mando una foto del risultato, allora come state? tutto bene? come state ragazzi? come va questo lunedì devastante, incredibile questo lunedì perché poi effettivamente è blu, blu per dire blu, blu, perché è triste avete giocato a Hogwarts? avete visto la mia jarra? che caso stai bevendo la polta è bellissimo, dai, va che figo la polza della magica, cosa c'è lì dentro? è una fiaschetta Estus sono io che mi sono rimpicciolito, ragazzi c'è acqua, acqua da rubinetto calcare 100%, ci piace per togliere quel condimento, quel puzzo di pesce che mi è rimasto in bocca allora, dino come va il culo beh ragazzi, va bene, va bene, più o meno ora so perché specifica che magari chi non ci segue su no, 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 Twitch contestualizza ovviamente specifico, specifico, mi fa male il culo mi fa male il culo, perché? perché adesso io ho provato quello che provano i cowboy i vaccheri il vaqueros in spagnolo il vaquero il vaquero, sì, sì perché ho cavalcato una cavalcata selvaggia siamo andati una cavalcata selvaggia con la vale adesso però un attimo cerchiamo di non fraintendere no, sto facendo il volgare il volgare siete voi voi avete lo sporco nel cervello io intendevo dire che siamo andati a fare al magheggio al magheggio dove ci tengono i maghi a cavalcare i maghi al maneggio a coi cavalli abbiamo provato io non ho mai cavalcato capito adesso dove deriva la parola magheggio sei un genio hai visto e niente quindi abbiamo fatto abbiamo fatto un'oretta e mezza di passeggiata al trotto bellissimo con i fiumi con i fiumi le montagne questa valle incantata dove c'era anche piedino laghi e fiumi sì e solo che dopo un'ora a parte che ho scoperto di avere un talento naturale nel cavalcare ma poi mi fa male il culo perché ho i muscoli degli adduttori delle anche che sono andati non riesco più a chiudere le gambe da due giorni poi dovevamo guidare sulle montagne non funzionavano più i piedi perché te tieni il tallone giù e premi con il cavallo era un modello moderno un modello moderno sempre anche quello della Dacia ma era start and stop il cavallo ma faceva tutto da solo bravissima creatura meglio delle macchine una femmina una cavalla una puledra le femmine sanno fare tutto sì sì le femmine sono superiori e niente davanti a me c'era un altro cavallo un maschio lo dedotto dal fatto che c'è una cazzo di proboscide e davanti a me c'era sto culo incredibile dove ti giuro Andrea tu hai mai visto tu hai mai visto un cavallo cagare sì sì cagano sempre i cavalli appena li guardi cagano i cavalli questo qua no quindi ho detto perché ero dietro in fondo alla linea ho detto no cazzo adesso mi dovrò godere tutta la merda e invece no però all'ultimo proprio questo si è fermato esattamente come Wutan come il mio cane si è messo lì così si è fermato e proprio in mezzo io ho dovuto oh buona ho dovuto fermare il cavallo mio e poi ecco che da quell'orifizio è uscita una quantità ma una quantità la famosa cagata da cavallo ma una cagata di un quarto d'ora Andrea anche la famosa pisciata da cavallo ma un quarto d'ora e quindi era lì che diceva complimenti incredibile voglio mangiare quello che mangia lui sette chili quello era una settimana che si teneva stava aspettando me io lo so si è lasciato andare e suoni deliziosi quando si vede il cavallo fare quello che fa e si vede proprio il meccanismo il meccanismo del si c'è questo piccolo prolasso poi esce questo uovo di dinosauro il muscolo il famoso muscolo tagliastronce sto mangiando Michele Michele scusami Brian non è ora di mangiare alle nove e mezza non si mangia si parla di merda scusami perché secondo voi le pubblicità della diarrea della direzione dei tampax eccetera sono a quest'ora perché così ve le ricordate mentre mangiate io ho scoperto grazie alla pubblicità degli assorbenti ho scoperto che il sangue mestruale è blu beh bestiacce bentornati è un piacere avervi qua è incredibile è un divulgatore scientifico è sempre blu quel cazzo del liquido bentornati Ludo Marco Rila Pro la voglia che non ho trappola Leo grazie mille Lotto Valhalla questo continua a ridere Daniel Pero grazie grazie bestiacce Martaj Titan Sangu Marika Reki Isabello Max Goliador si no ragazzi parlava di avatar è un stava parlando del sangue di Navi poi Kage perfetto sempre Raffiwar Mr. Meg Ashgan Sampo Yeren Alex Matteo Mazzarello Mazzero ce l'ho fatta scusatemi Ludo Helsin Helval poi chi altro c'è Mako grazie mille bestiacce l'ho fatto Valhalla è anche figlia di Sparda e Arlok grazie bestiacce grazie per le sabre ragazzi ma ce la facciamo ad arrivare a tre ore di The Forest o no tra l'altro mi stanno salvando in tanti il problema è che il counter mi sa che è un po' impazzato si è impallato siamo al 5 di Apt grazie ragazzi ragazzi tre ore di The Forest quando esce il survival più figo che esiste e poi cos'altro volevo dirvi a questo weekend ragazzi facciamo la live speciale con Jumanji me l'avevamo promessa ve la porteremo qui Andrea qui Andrea sto weekend ci si vede ci si fa tutto il tampone tipo da due mesi certo lo so ti manco? no no assolutamente no ma io non prendo mai un cazzo che tampone devo farmi i tamponi vaginali per rimanere in tempo ma mica ma l'asta Andrea porca puttana Dio Bono ma c'è una linea sottile che tu non devi superare ogni cazzo di volta boom ti dà così così fastidio no ma perché non c'era bisogno il troppo stroppia fermati lì figa mi fastidio il ciclo ma no ma chi se ne frega però sei te che rendi tutto vabbè bestiace bentornati mi dispiace allora escape the backrooms un gioco sulle backrooms noi abbiamo già fatto un gioco sulle backrooms ma si chiamava fine no fine come mica inside the backrooms ed era un gioco due giocatori poi ho giocato ho giocato a the backrooms lost tape e adesso indovinate un po' c'è escape the backrooms ma io voglio dire incredibile ragazzi come vanno a differenziale con i titoli tutti i giochi uguali ovviamente stasera dunque facciamo questo gioco che io neanche ho avviato quindi non so neanche se parte dove in sostanza fatto a livelli è procedurale ma non è un dito in quello con l'altro quindi teoricamente dovremmo farci questo è il capitolo 1 l'inizio voi state per assistere all'inizio di una si spera nuova serie sulle backrooms backrooms perché? perché mi piacciono le backrooms veramente a me no ci vediamo domani alle 21.30 è stato un piacere ragazzi grazie allora non è che non mi piaccio Andrea posso aspetta no no aspetta Andrea ascoltami adesso iniziamo a giocare fermi però di questa cosa gliela devo dire allora tu hai stai fermo immobile hai la linea della tenda perfetta con la spalla sto svalvolando perché sembra che metà schermo sia tagliato è una cosa incredibile è un effetto ottico è un effetto ottico orribile Andrea sembra che si è tagliata a metà l'immagine sposta la telecamera fa qualcosa fa qualcosa Andrea dà fastidio dà fastidio non lo so basta che fai qualcosa e beh è cambiato tutto così proprio è incredibile ragazzi come basta un centimetro e tutto cambia è tutto bilanciato cioè Goku è girato perché c'è offendo Goku? ah ma anche l'avevo visto che carino quanto l'hai pagato? l'ho preso alla Games Week quindi l'ho pagato 600 euro il vostro eroe iniziamo a giocare bestiasce sei pronto? certo certo devo come si usa Steam? devi intanto schiacciare il tasto d'avvio del del oddio consenti l'accesso a Windows Defender sì ecco come devo chiamarmi Windows Defender foto sensibility warning però che cazzo ah possiamo mettere allora ragazzi attenzione adesso settiamo tutto il gioco c'è il filtro VHS vi ricordo la VHS no no mi sento ti prego se vuoi allora se vuoi vedermi morto lo mettiamo no no Andrea ma tu non lo devi vedere lo puoi abilitare o disabilitare lo volete o non lo volete? io metto not now not now enable enable che è sta musica? le cucuzelle che è sto disagio? cos'è? no figa partiamo già malissimo allora però ragazzi fatemi abbassare no Windows fullscreen ha fatto tutto da solo fullscreen apply apply ok ok funzica allora multiplayer create a server max player 2 private server yes create penso che ti debba dare una mi sto intronando fai qualcosa invita guardate quanti colori che ho che ha caudì sballato orco giuda ti ho invitato ti ho invitato non so come funziona ragazzi ah aspetta no che pirla forse vediamo se posso mettere perché dovrebbe esserci in italiano credo not ready settings graphics audio controls game eccolo qui non c'è controls audio allora Goizet is currently unstable sembra che stai avendo un ictus ragazzi porca puttana ma provaci almeno voglio leggere un po' c'è fullscreen of frustration sai quelli sul quando il pilota italiano e quelli quelli il copilota sugli aerei in italiano sull'Italia che sono tutti del sud Italia esatto non so perché che inizia che ci prova che ci sta provando sì sì quelli sull'aere che dicono se avete bisogno di profumi Ugo Bosch venite in cabina ma perché su Ryan Army non i profumi ve l'ho spiegato e niente ragazzi ci ho provato sei entrato Andrea sì non c'è in italiano ma sti cazzi tanto la storia non ci interessa normal hard nightmare no facciamo normal ma c'è solo una mappa penso di sì warning voice chat is currently unstable and may result in crashes when moving to other levels come please disable voice chat before entering disattiva la voice chat mi raccomando perché dice che se no si spacca il tuo pc poi c'è scritto ok save names must be between one and 16 characters cazzo dove cazzo perché non parte sta minchia col cazzo è il problema fai i redi Andrea hai fatto i redi dove cazzo è il waiting for the ah devo mettere il save name non l'avevo manco visto come la chiamiamo la partita anzi l'avventura l'avventura start a game save name cannot contain special characters ma vaffanculo va bene vaffanculo ok ci siamo stiamo lanciando vaffanculo ci siamo non è un po' non è un po' rispettoso non è un po' rispettoso non lo so ah stiamo già giocando sto già male ma dove sei tu che è sto suono no Andrea ancora quel cazzo di suo mi sa che quello mi fa stare ciao se ti spavento Jesse 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 spalla incredibile Andrea ti hanno costruito allucinante attenzione c'è un qualcosa qui sembra quella foto della Ferragni a Cerremo di profilo sai che ho riso come un pazzo sai perché perché ho letto guardami di profilo quella foto lì guarda ho riso come un pazzo Andrea sai perché perché ho visto un commento c'era la Fregnanni c'era la Ferragni messa così e c'era sotto un commento che ha detto ma dai ma non rompete il cazzo che sembra il professor Fonsworth di Futurama cazzo ero uguale ragazzi è vero ma perché perché allora voice chat toglilo cerca il voice chat audio audio dove cazzo si capisce audio quality push to talk disable input gain l'hai acceso l'hai acceso è scritto enable adesso è disable no adesso è attivo mi senti si di cento doppio così così no perfetto allora lo lascio lo lascio non si capisce un cazzo è già un mistero questo ma io vorrei abbassare sto suono fastidioso e diminuire leggermente la sensibilità perché stavo male volume maestro volume maestro io lo metto a 50 perché se no veramente show body enable perfetto di rianimazione ma posso abbassare ma vorrei abbassare leggermente l'input il controllo mouse sensibili ti abbassa sto cazzo tu hai il mouse invertito invert mouse il popo invertito no ok molto meglio così tasto e posso sbirciare Andrea schiaccia il tasto eq aspetta 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 che il tasto eq state bene ragazzi mi fa vomitare io metto 9.2 di sensibilità ok tasto q ah no bene that thing doesn't want to escape exit fix it ah dobbiamo Andrea dobbiamo costruire una vabbè leggi tu ragazzi dobbiamo dobbiamo cercare si lo deduco lo sto deducendo ah c'è l'uomo del cavo c'è l'uomo del cavo dobbiamo costruire una una scala quindi cerchiamo cerchiamo la scala sto suono però da 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 zanzariera da dentista da lampada da lampada moschicida nei cessi mi da un fastidio mi ricorda mi ricorda la mia prima e unica lampada al solaremo che ho fatto che aveva rischiato di farmi mi ha cotto le corne bei 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 momenti ma anche le corna e sai la non l'avevo mai fatta una lampada io non sapevo che bisogna chiudere gli occhi ma andrea già e sono tutti uguali i giochi sulle backrooms possiamo dire grazie anche a delle backrooms siamo qua per sfatare un mito ragazzi siamo i meat bastards dei videogiochi siamo incontro ai bastardi spavento andrea figa questo veicolo mi piace quando dino si sporge mi viene da sboccare caratteristico parlo e premio velocemente QQQQQQ, guarda cosa succede No, scherzi, QE, fai QE, QE QE, QE, QE Tutto bene, Andrea? Comunque, per iniziare a pensare Che io ho un problema con le background Mi danno questi degli spezzi liminali Hai tolto l'effetto VHS? Sì, sì, ma comunque È stato non c'è un cazzo No, ma è l'audio, ragazzi, che mi dà fastidio No, creo, creo, creo C'ho tipo un disagio Come te la cammini tranquillo, bello rilassato? Che è quella fessura là giù? andiamo sembra sembra E' così che sono nato col tasto f non possiamo accendere la luce e spavento C'è Ia che c'ho una roba nell'occhio un maranza pronto all'uso Cos'è che c'hai la roba nell'occhio era la fine Allora no Grazie dobbiamo tenere gli occhi che mi ricorda e l'albergo l'albergo dove sono stato in vacanza che ho traumatizzato mezzo piano Quella era così era fatto a becrum per l'albergo E poi iniziamo già a cacarci sotto c'è un po d'ansia il mio passato di Per favore puoi venire qui immediatamente grazie Da maranza Ma c'è un modo per accendere la luce Che cazzo è Cosa c'è Cosa cartellino rosso ma è espulso che è Questo tasto c tiri fuori Cos'è Ah Ah ti chiami così La sera Chi è chi è vediamo Mostra il badge Andrea per favore badge Badge Grazie mille Andrea copp tv Può passare E i moderatori del canale sono fatti così ragazzi Come può passare Daxi ne ha fatto così Va bene attento alle colonne che non le vedi ti compaiono in faccia Che è Che è Che è smicchiato la Che minchia di Sì guarda va dall'altra parte Cos'è Cos'è scubidù Che corri tra i corridoi Dove vai Non so dov'è l'uscita Sto per sentirmi male di nuovo Perfetto Caratteristico Siamo addestrati ragazzi Pronti Guarda come Come nulla fosse No Andrea ascolta Coprimi per favore Sto male Cioè mi sta venendo Com'è che si tira fuori il Il cazzo Ambience volume No io voglio togliere No i cili abbiamo Quell'effetto del cazzo che c'è Fa parte delle backroom Mi da troppo fastidio Sto Di sfondo Non ce la faccio ragazzi Cosa devo abbassare Qual è che devo abbassare Polizia Un giapponese Che educato che sei Mi hai fatto vedere Ti sei abbassato Il badge Ah tipo gli ipocrifichi Che devi inchinarti Aspetti faccio vedere Guarda guarda L'hai sbloccato L'ipocrifo in Hogwarts Ma che eleganza Andare nei movimenti Degli struzzi Due deficienti Audio Se urli muore Eh E l'audio si piega Prova ad abbassare Ambience Ambience Abbassiamo Ambience Ui Enti Forse entity No entity Penso siano Footstep Ambience No entity volume Penso sia nemico Comunque c'è ambience Ambience Sì E me lo farei zero Perché anche sentirlo Leggeramente Perché sinceramente Mi stai entrando nel cervello Ok Anzi è più pauroso Così guarda C'è un po' il suono Leggero 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 Allora con calma Andrea Possiamo abbassarci Col tasto Non schiacciare Non schiacciare il tasto Per abbassarti Andrea Stai svieni Qual è il tasto Voglio capirlo Ma sei deficiente Un momento per l'eternità Devo farlo Acqua Grazie Grazie Devo farlo Devo farlo Ma cos'è Che tasto è Con la V Con la V Ma tu non mi sentirai doppio Mi senti doppio Certo che ti sento doppio Figa ragazzi Sono cagato Non va già bene Io ve lo dico È incredibile Quindi potrò usarlo Potrò usarlo Sì ma Te lo dico Se premi control Veramente ti viene Sì se premi control Svieni Proprio il personaggio Sviene Ma non c'è niente qui Quindi qui è partito Quell'audio Ghiacciante Ma non è servito Un cazzo Buono Bene Andrea La prossima volta Compro un pacco Da fazzoletti Tempo Te li metto Uno in bocca Uno dopo l'altro Contiamo i secondi Ti sei cagato Così tanto Ma com'è possibile Abbiamo iniziato qui Come sei Ma non lo so Abbiamo iniziato qui Ma come che sei Non c'è un punto di riferimento Stiamo in un infarto Alla tempi Non credo che Abbiamo iniziato qui Vabbè Al gioco piace cambiare Bene perfetto Già abbiamo un problema Dobbiamo trovare No abbiamo iniziato qui Ah ma c'è sempre Lo stesso cartellino Bene Non abbiamo neanche Dei punti di riferimento Ragazzi Perché Perché no Ma quella stanza buia E scura Che cosa cazzo ha servito Ah Voglio andare di qua Spero ci sia la clip Del mio urlo Con cinque voci Con calma ragazzi Con calma Permesso Allora Andrea Qua abbiamo due strade Di qua E di qua Dove andiamo Per me è di qua Vabbè seguo lui C'ho un buon presentimento Ogni volta che gioco alle backrooms Ragazzi Sembra veramente di fare Un giro con l'agente immobiliare Ampio Con grandi possibilità Di spazio Secondo convenienza Allora qua Beh 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 Effettivamente Le backrooms Per me hanno pure Un affitto basso Potenzialità d'arredo Incredibile Sì sì Cioè ti spazi qua L'inminario Qua puoi fare una bella Una bella Un bella Cioè che proprio ci entri E non riesci più ad uscire Ho trovato una porta Vedi La camera La camera Per il figlio Per il figlio Che non ha la parte Proprio Non lo vuoi vedere Guarda come ti abbassi Per parlare le robe Non ci apro Col tasto F Questo vuol dire Essere mio Ci stanno per fregare Andrea Dopo il tasto F di fregare Ma tu anche tu hai scritto PMMAR 07 11 38 No no Quello è l'effetto VH Io non so Minchia Sto vedendo adesso La tua La live Ma sei fuori Ragazzi se vi da fastidio Toglio 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 L'effetto Se vi turba Anima lo tolgo Moderatori fate partire Un sondaggino Per sapere Se tenere Che sbocconizzerebbe Che sbocconizzerebbe Che sbocconizzerebbe Senza fomento Scusa Ditemi voi ragazzi Perché posso capire Che dia fastidio In percentuale Vediamo quanti di voi Soffrono Magari pochi di voi E uno dovrebbe pensare Ai più deboli Ai più pochi Invece no Questo è un mondo giusto Legittimo Non è certo per pochi Che vado a cambiare La vita degli altri Di molti Attenzione Attenzione Questa è una morale Che dovrebbe essere VHS Non è certo per pochi Che vado a cambiare La vita degli altri Incredibile Wow Con che fonte Me l'ha dato Sbavento Ma la smetti Figa Minions Io sono Dio Dio T'ho sentito A destra e a sinistra T'ho sentito Dio Dio Che sono Dio Ovunque C'è un pezzo di scala Andrea Bellissimo Due pezzi di scala Penso che dobbiamo Ci appare nessuno a testa Però c'è un problema Qua partirà il mostro No Non mi piace sto spazio Cupo Ma sca Che l'ho preso Ssh Zitto L'ho preso Ma è che come carichere Una pistola Io Mi piace Andrea Non mi piace Un altro Ma sia il tutorial Tutora non succede niente Che illuso Vedi No Non guardare Non guardare L'animazione Ok c'è una C'era una chiave Qua sopra Con la porta di prima Si si con la porta di prima L'animazione era da infarto Ma no scusami C'ho la chiave Ho capito Ma io a me non ha fatto L'animazione Eh ce l'ho io Ce l'ho io C'ho paura Aspettami Dove è la porta di prima Destra Non è vero Destra Non è vero Qua Ti giuro Ti giuro che Andrere Tenere VHS Sì dicono di sì Perfetto Ok Ma non è certo per molti Che cambio la vita di pochi Attenzione Un giochetto che si può fare Non c'è più la porta Ci hanno fregati ragazzi Eccola Adesso dalla porta esce Vado Permesso Hello Hello Eat and use Q To balance yourself Attenzione Q E per balance yourself Che bello sto Sto faccio di lavoro Andre Oh mio dio Oh mio dio No ti prego No Andrea aiutami Non posso farlo io sta cosa No Andrea Dove c'hai? Mi vedi? Sono sceso Sono giù Non mi vedi? Sì ti vedo Posso pisciarti in testa Ah sei lì Posso pisciarti in testa C'è chi piace Ma io non sono avvezzo No ma io non posso farla Sta cosa Mi sento male Per favore Buttati giù anche tu Andrea Non ce la faccio Per favore Sono caduto Almeno per Spavento Ma non c'è una cazzo di torcia Che possiamo Ti di torcia Sto c Tiriamo fuori il badge Facciamo vedere il badge al mostro Se arriva Sono autorizzato E lui dice Ciao va bene A cazzo guarda il badge Che splendide di luce propria Nel buio Ma che roba Eh sì Esattamente È la tecnologia Hanno pensato a tutto Siamo fottuti comunque Andrea Io non so come torneremo su Perfetto ragazzi La prima prova è andata Teoricamente dovremmo sempre scendere più in basso Beh beh Senso Mi ha fatto la cosa giusta Stiamo Beh Effettivamente ha avuto un mancamento Il mio personaggio Io non ho capito che è successo Ma è successo Che comunque fanno del male inside a me le backrooms Non so come perché Come ti senti Sento male Però ci sta Fa parte dell'esperienza Abbasso un po' per piacere Perché Non ci sono Che cosa devo abbassare qua Non ci suono Se le backrooms Se le backrooms Sì sì Abbasso il Ah quello vi dà fastidio ancora Così Anche la cero Ecco abbiamo trovato Il disagiato della chat Alza che mi piace da morire Scommetto che tu sei una di quelle persone Che va a letto Con i suoni bianchi Che si sente Nelle cuffie Fino a luna di notte Ci piega l'audio Inutile Ci piega l'audio Lo rifaccio Così nelle orecchie Per tutta la notte Io che sto male Per il VHS VHS ragazzi Mi piace ragazzi Mi piace Mi piace Oh avete votato voi Che cazzo volete Infatti avete il potere Di cambiare le cose O non lo fate È la modalità VHS Che fa quel rumore Vediamo No ma non è No Andrea Vediamo un po' No rimane lo stesso Minchia che visuale incredibile Però senza VHS Senza VHS è molto meglio Che sembra quando indossi gli occhiali Per la prima volta Acqua Che cazzo dove è uscito È scritto tu Ma basta Minchia Andrai avanti con sto meme di merda Per altri tre me Perché poi Guarda se mi starà attaccato al culo Ragazzi Perché dopo Esce anche su Playstation 4 E si riparte da capo Acqua ovunque ragazzi Acqua ovunque Presto Ed action farà le motte Ve lo promettiamo Oh Andrea 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 Poi facciamo anche l'acqua Precce Osho eh Osho eh Cosa ne pensi del diavolo? Però aspetta che rimetto la modalità VHS Perché non cambia un cazzo Viene il vomito lo stesso ragazzi Cosa ne pensi del diavolo? Ah VHS Camera Ok Ah si può fare VHS camera Cazzo vuol dire VHS camera Eh sono diversi effetti Vediamo VHS disable Allora c'è VHS Disabile E camera Quale modalità volete ragazzi? VHS VHS Teniamo VHS Così che non vedo i mostri Però effettivamente Ho più schermo Ok Disable Disable Ok giustamente includiamo Allora Disable Vabbè ragazzi Alla fine avete votato Ma come vedete Infatti Cioè votate sempre Quello che non volete Ma perché? È veribile È proprio vero Perché? Perché? Buono dai Lo sai cosa ha fatto? Non hai fatto finire la eccitazione Non lo smetto di giocare Non lo smetto di giocare Ma è così forte Fallo che voglio capire com'è No non lo faccio Non ti do la soddisfazione Ah tu sei No non ti do questa soddisfazione Volevo dire Lo sai cosa ha fatto Quella straccia cazzi Di tua figlia Citta l'esorcista Che cazzo di ansia Andrea c'è un frigorifero C'è un frigori Ho cambiato completamente architettura Questa è la zona pranzo Come potete vedere Bella straccia di pandancio Ma Mi pare tutto caratteristico Si possono aprire questi mobili Che cazzo sei? Che cazzo sei? Che cazzo sei? Esci esci Ma esci un Vieni di qua Non vedo niente ma tranquilli Ho il badge Permesso? Non vedo un cazzo Andrea Non c'è una luce qualcosa? È buio No è buio È buio È grazie Di lungo il buco del culo proprio Saliamo Che vi devo dire Anderai prima tu va Va bene Ma mi passiamo Mi scendere Prima si fa scendere Poi si sale Vai vai Chi l'ha detta La regola delle schede mobili Vai vai Ma non ho paura Corpo nazionale Ah ma va a fangere Il fuoco Ma porca puttana È l'altro livello Abbiamo già finito un livello? Ah il parcheggio Ah siamo usciti da qui? Dove hai parcheggiato? Dove che hai parcheggiato? Ah l'indicato E come? Non la vedi la macchina? No Abbiamo un tastierino elettronico Con Uno Tira fuori il C Stica Andrea No senti Basta Basta Tolgo sta roba dell'audio Perché se tu mi fai No 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 Ti dico io cosa cazzo Tiro fuori Ho premuto Ho premuto il C No come si Si deve Devo disabilitare Anche perché han detto Di disabilitarla Perché altrimenti Poi si bugga il gioco L'han detto prima Per un livello e l'altro Quindi ho capito come cazzo Si toglie sta roba Per me è veramente Disarmante Acqua Tu dimmi Un bimbo Dov'è? Non c'è Non vuoi? Non si può Ma vaffanculo va Fa parte del gioco Che bello Allora qua c'è scritto Che cazzo è stato? Check everyone's ID Don't trust me Ah attenzione C'è un cosi sotto la maschera 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 Che sia solo un mostro Dice il gioco Ah Che cazzo è stato? Chaff chaff Mi son pisciato Guarda come il gioco Guarda come il gioco Guarda come il gioco Andrea restiamo uniti per favore Sento uno strano suono Ma non capisco Ma chi è quello Ma chi è quello dietro di te? Sei simpaticissimo Ma ti giuro Ti giuro C'era una roba Ah l'estintor Sembrava Sembra la testa Ti giuro Andrea Allora facciamo una bella roba Strategia di gruppo Figa Non ti si vede proprio però a voi Se vediamo qualcuno Gli corriamo in faccia Ad ariete La testa clina Alla Tyson Corpo nazionale Ed è qua Salve Permesso Che è? È la chine È un normalissimo giorno d'ufficio Ma ste candele? Ah son Ah dovremmo Mi c'è che Acqua Buona Che bontà Ma perché Ovunque l'acqua Cosa è quella roba lì? Vaffanculo io chiudo C'è altro Mi sa che siamo negli uffici del comune Perché non c'è nessuno alle scrivanie Sì Penso anch'io Sono proprio simpatico eh Dai dai che voglio qualcuno offeso Che lavora al comun Che lavora al laser Che mi scrive In privato Andrea qua Stanno giocando con la nostra mente Vedrai Che ci c'è Vedrai Soprattutto Soprattutto quelli Salve Salve Permesso Permesso Ah un'altra lattina Ah Sì Un normale lunedì Oh Flashlight Andrea Oh Flashlight Vuol dire che ci alza Che ci alza L'impermeabile Mi puoi spiegare per favore Se ho un Un leggero problema Di scogliosi No perché mi parte La flashlight Devi prima averla intanto E poi mi parte Il braccio Dall'orecchio Quindi non capisco L'ho già raccolta La punti come una Come una Come una 9 mm La punti Assolutamente Qual è il tasto? Andrea devi prima averla L'ho raccolta L'ho raccolta Tasto sinistro Figa è la cosa più naturale possibile Premere il tasto sinistro No bevo Ah Cosa bevi? La torcia è abbastante Ma l'ho raccolta Che è quella roba? Ce l'hai o non ce l'hai Andrea? Scolta prima E' un problema in meno Apri Ah non puoi aprire? No che cazzo vuoi? Ma possiamo Ma perché la tieni così? La tieni rigida come una Ma quindi uno solo deve avere la torcia? Ottimo Non lo vedi ma la tieni come una 9 mm La tieni tipo così Tipo di stretto di polizia Ma te l'ho detto Te l'ho detto Faccio un'altra ala Del parcheggio Ciaf ciaf Oh ma che bella macchina Incredibile Andrea Occio Perché se vediamo un altro Che è vestito esattamente come noi Potrebbe essere un mostrum Quindi fa attenzione Sei tu? No Queste macchine Queste macchine Sono macchine Esatto Il parcheggio Il parcheggio Cosa ti ricorda al suo suono? Vabbè No no adesso me lo dici Ho una mente che vaga ragazzi Il mondo tutto suo Ha una posta No no può ricordarti Può ricordarti qualsiasi cosa C'è l'ironia spiccia quella proprio Lui guardava i cinepanettoni E alle scolegge Applaudiva Sono io Sono io Sono io Sono io Christian De Sikert Comunque un nome importantissimo Non so se Che è stato? Eh Vaffanculo C'è un'ombra malvagia e paraumana lì guarda Dove? Ah sono io Ci mi metto davanti alla luce guarda Ottima Attenzione sui soffitti Andrea Non me la racconta giusta Stai sfricolando quella luce Vuol dire che sta succedendo roba Qua 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 Abbiamo trovato la soluzione Figa non si esce più da sto posto di merda Allora acqua C'è un tasto qui Rimeteva la famiglia se c'è un'altra Torcia cazzo Io l'avevo raccolta ti giuro C'ho un'ansia dentro Mi fa e mette più inquietudine Questo gioco delle Bexuns è fatto Bexuns Ah c'è l'inventario Guarda l'inventario C'è l'inventario E come si fa E come si fa? Ah ma c'è anche la sanità mentale E l'acqua che fa C'è la Ristora la sanità mentale Giustamente Come si fa Il tasto 2 Esatto Tiro fuori la bottiglietta d'acqua E via Non dobbiamo sprecarla così ragazzi Però è molto buona E l'animazione mi piace E un'altra flashlight Vieni qua Per te Dov'è? Qua Ah Vieni qua Guarda come la tengo Guarda Ma quindi vuol dire Che forse ci saranno delle pistole E questo spiega Perché Ragazzi come potete vedere Nell'immagine La mano mi parte dall'orecchio Polizia Guarda con la torcia pure Polizia No Andrea Ti faccio vedere cosa succede Come tiro fuori il badge Guarda guarda Ah proprio C'è incredibile Ah Vieni qua Riesce a fare essere L'equilibrio la torcia Sulla carta C'è tengo la C'è mi cassa Guarda Guarda incredibile Ma l'altra mano che serve? Non esistono altre mani E che quanto spazio qua Era salito di grado Qua c'è un'altra porta Vediamo un po' Devo andare palesemente sotto quella luce lì E spaventarci Ma sei deficiente Ah Qua è la mia macchina Vediamo Ma guarda C'è l'imbarazzo della scelta Andrea Un po' mindfuck Sto posto I tutti i parcheggi sono Secondo me dobbiamo chiamare l'ascensore Caratteristico Dobbiamo trovare Non è che abbiamo anche l'ascensore Che cazzo Ah le orecchie Porco dici Non lo so Come si esce Andrea dobbiamo trovare il codice Non abbiamo il codice Dobbiamo trovare il codice Ci penso io guarda Ci penso io A meno che c'è un modo per aprire questo pannello E decifrare 1 1 Prova 1 1 1 2 1 1 1 2 Non va Prova 1 1 1 3 1 1 1 3 3 Quante poi combinazioni ci sono 1 1 1 1 1 4 Non va Prova 1 1 1 1 5 Ah l'avete voluto voi È vero però consigliano 0 0 0 0 È vero 0 0 Hai provato? Sì ho provato tutte le combinazioni possibili Allora ricominciando a capo Prova 0 0 0 1 Piga alla fine Va bene Ha funzionato Sei un cretino Sei un credulone Prova 0 0 0 2 Allora abbiamo trovato il codice ragazzi Non è che dentro ogni stanza c'era un indizio? C'era un numero? Probabile Questi estintori? Allora lasciamo le porte aperte di ciò che abbiamo già controllato Scusami Sì però guardiamo che cazzo c'è dentro Se l'abbiamo già controllato la porta è aperta Dobbiamo tornare secondo me a quel parcheggio di prima Perché 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 potrebbero esserci delle 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 robe sotto la macchina Tipo che cazzo ne so vedi Aspetta che suoni Andrea dove sei? Sei tu? Sì sì Tira fuori i badge Sì che sono io Non mi fido Tira fuori i badge Allora Allora ti dirò una cosa Ti dirò una cosa Sono io Ti dirò una cosa I tasti hanno gli stessi colori Ma mostro che badge ha Si è scritto mostro? Allora i tasti hanno lo stesso colore di queste macchine Ci sono tasti veri Tasti blu Tasti rosci Ottimo Quindi c'entrerà qualcosa Ah è questo il codice Guarda è uno Tre Quattro E E' otto Ah ho capito il ragionamento Sì Quindi un tasto verde E beh allora uno deve stare qua Uno deve andare di l'Andrea Ok allora Ti hai capito? No Vado io di là Guarda che sono stanco Dimmi quando ci sei Che è quello lì? Che è quello lì che sta tirando fuori il coltello? Abbraccialo Dimmi come è andato a finire poi Abbraccialo Allora Il primo dovrebbe essere un tasto verde Quindi dovrebbe essere il due Quindi il primo in prima fila è due Poi la macchina Poi la macchina blu invece? La macchina blu è in terza fila Quindi è sei Poi? Ma guarda che la macchina verde era su uno comunque No no è due fidati Vabbè Perché l'uno Poi la macchina rossa in terza fila No quarta fila Oh Cristo aspetta Come devo contare? Quarta fila macchina rossa Terza fila macchina blu Quindi penso sia così? No è sbagliato Non sto capendo il ragionamento Neanche io No ma era così il ragionamento ragazzi Aspetta Torna al tastierino Guarda guarda tu stesso No non torno un cazzo Io sono molto sicuro qua Guardare l'unica porta dove può entrare il male Torna qua No no Se vuoi ti dico Vabbè allora rimango io lì Bravissimo Fate a cambio Eccoci Vabbè Andrea Però se hai capito l'enigma vengo io Dai dimmi tu che cazzo schiacciare 5 6 Come 5 Ma scusami 1 2 3 Allora prima fila Prima fila Tasto verde Quindi il verde è E allora il verde dovrebbe essere il 2 Perché l'1 è rosso Premi il 2 Fatto Terza fila Tasto azzurro Sì 6 Quarta fila Tasto rosso 9 Poi di nuovo terza fila Tasto azzurro Eh ma come prima è uguale a prima Cioè è sbagliato Ma comunque la prima è sbagliato Oddio sei tu Andrea Sono io Sono io Sono io Ma a cagare Ma vaffanculo Me ne vado Andate tutti a cagare No no N'assalto Mezzo di merda Ma non sei tu Allora Fai F sul tasterino Vedi Il problema mi sa che è l'ultima macchina che non dovrebbe essere lì Tipo c'è anche il giallo Perché la quarta fila in realtà è il giallo Ma che cazzo ne so Oppure bisogna vedere solo i colori Però vedi i colori combaciano quindi penso sia quello Prova 1 3 4 7 Le macchine sono 4 Quindi probabilmente il codice è qui Sono quelle macchine lì Dovendo solo capire l'ordine Come funziona? Dino verde e blu blu rosso Verde e blu blu rosso Ce l'ho capito ma dovevamo capire i numeri Eh dovevamo capire i numeri ragazzi Ci sono tipo tutti i numeri I colori li abbiamo capiti I colori li abbiamo capiti Dicono 1 8 3 4 Ma secondo quale ragionamento? Prova 1 8 3 4 Prova Però scusate Ma non c'è il 3 così Cazzo si cancellano Vedo una minchia Non vedo 1 8 3 4 Non vedo il cancelletto Dov'è? È questo Ebbene ho rotto tutto Attenzione vado No Ma non sono in fila No perché c'è 1 2 3 4 Ah Forse devi girare Allora è 2 L'altra macchina era? La rossa? O la blu? La blu? Aspetta aspetta Sto tornando indietro 6 Allora c'è la verde La verde in prima fila Allora c'è la verde Ma era un casco Era facilissimo era Cioè era facilissimo Veramente Ma ragionamento Ma con le con Dove minchia sei? Mi vedi? Me ne va Io se non sei tu Me ne va Andrei me ne va Ma è frego un cazzo Ma che sta paura Che non Addio Aspetta Ti tenga l'ascensore Tenga No no mi dispiace Sono un impegno Ah grazie Ho mostrato il badge Giustamente Cioè primo piano Secondo piano Dove andiamo ragazzi? Siamo già al primo Beh il secondo Come siamo già al primo? Ah c'è scritto lì uno Adesso twist Non era Andrea Sì ma fin dall'inizio Sì sì Non sta neanche giocando Sì sì Ah Vabbè puoi usare L'almond water Use almond water To restore your sanity Nobody is Non ho letto Nobody is sano C'era scritto Quindi ci sarà qualcosa Che ci farà impazzire È possibile Bello però Mi sta piacendo Molto più figo Come backrooms Rispetto all'altro Può giocare Massimo in quattro Sì ci sta Allora iniziamo a esplorare Da destra Devo andare in bagno Tutta quell'acqua ragazzi Acqua Controlliamo Che non ci sia nessuno Prima Prima di entrare Come c'è qualcosa qua dentro Cazzo vuol dire c'è qualcosa Non c'è qualcuno C'è qualcosa da droppare Allora una bottiglietta d'acqua a testa Andrea perché le abbiamo Le abbiamo sprecate tutte Una a me Una a te Grazie Non riesco Non riesco Che c'è Non riesco a prenderla O figa F F di figa Nel dubbio ragazzi Non ho più Non ho più la torcia Ma perché c'è Come non hai più la torcia Schiaccia due Minchia sembravi Non ce l'ho Catatonico lì Non ce l'ho Andrea Uno La torcia Due L'acqua Schiaccia I Non ce l'ho Ho fatto I C'ho solo il latte di minchia qua Buonissimo il latte di minchia Ve lo consiglio Mi dispiace Ma di quale animale? Ho chiuso Sì ma Andrea Olè Siamo salvi Grazie alla mia Preparazione sul campo Grazie alle mie due lauree Beh Veramente No perché l'ho rivisto quel video Effettivamente hai ragione Ce la tira in un modo No no ma è eccezionale Quell'uomo Io vorrei avere la sua sicurezza Vabbè con due lauree Sai quando sei Sei l'unico al mondo E pensi di essere Cioè Non è che pensi di essere L'unico al mondo Pensi di essere l'unico competente E effettivamente scopri Deve ragione Noi dobbiamo guardarsi Anche alle spalle Andrea Perché non c'è da fidarsi qua Chi l'ha detto Fidati Ma lui entra così Tranquillo Potrebbe esserci qualcosa Torcia eccola Attaccato al soffitto Ma tu ogni volta Devi cercare la torcia Non ho capito Che è sto suono Non lo so Ciao Ti chiedo dentro Ho tutto sotto controllo Andrea Ho il badge Ho il badge Bello Cazzo che burlone Che sei Non era Andrea Un'altra porta qui Vieni Però si vede il corpo Se guardi giù No si vede la luce Che attraversa il muro Fai te Però non separiamo Perché veramente Il gioco ha detto Di non farlo E tu lo fai Ok attenzione Abbiamo una porta misteriosa Ma che sta cosa Non si può aprire C'è scritto cop tv qua Cop open Attenzione Cop open Cop open off Cop open off Andrà come subito Cos'è? Il mostro C'è qualcuno lì Guarda Come Come spadroneggia Per i parcheggi Andiamo Allora Lui non ha le torce accese Andiamo a vedere Sì ma non mi stare attaccato Al culo però Paura Paura Ah ma c'è paura Vai 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 Oh Corre davvero Allora Oh Oh Oddio Chiudi la porta Ma c'è esploso In mille pezzi Chiudi la porta Com'è dentro Però Ok Andrea Ti devo guidare È al di là Mi devo grattare la pancia Ok Non è il momento Fidati Allora adesso E lui è dall'altra parte Ascoltami Aspetta che se ne vada Ok Ok Ascoltami molto attentamente Se gli mostro il badge Il mostro non si mostra Tranquillo Non aprire Minchia Quelli sono i resti di me Eccolo lì Andrea chiudi Chiudi Andrea chiudi Aspetta Non gli mostrare Andrea no Bene Excuse me Hello Che sei la bellissima Eh scoppia Scoppia No ma appena sei morto Appena sei morto È ritornato in forma umane fa Hello Eh sì Eh vabbè Ci siamo tornati qua Ritorniamo Quindi c'è il mostro qui C'è il mostro Beh però Allora Andrea aspetta un attimo Hello Devo andare un attimo in bagno ragazzi Tutta quest'acqua è veramente mia Hello Fatela clip Subito Vattene Vattene Lasciami qui da solo Col mostro Però Perché uno può essere un mostro all'esterno Ma è comunque educato Eh sì Comunque saluta Salutava sempre Mai giudicare dalle apparenze Era come noi Ma era diverso Hello Hello Minchia Ma Sai che hai fatto una cazzata Perché ci sente adesso Ah sì Eh sì Vieni brutto pirla Buono Ottimo Mi sembra un'ottima strategia Quella di Di stuzzicarlo Però non abbia le torce E quindi adesso Per riconoscerci Allora lui non ha le torce Quindi teoricamente è facile Riconoscersi Ma basta tirare fuori i documenti qua Eh ma non rimane fuori Per sempre Mi sta venendo Leggera ansia Comunque si presenta Si presenta così Andrea solitamente Lui si avvicina Poi una certa E quindi tu capisci Che sempre Ma non devi andare in bagno Sì devo andare in bagno Che cazzo Vieni qua Chiudi Chiudi Vieni Fregami la torcia Io ti aspetto qui Dalmeno so riconoscere Vado un attimo in bagno ragazzi Ci metto un po' Vai 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 Hello Mi piace ragazzi Andrea pensa a un piano Mi piace Mi piace Il piano è Parlare con la voce Il diavolo No? Ah vabbè l'acqua L'acqua per ora non serve Quindi L'acqua Giustamente L'acqua sempre Sempre ovunque Comunque mi sa ragazzi È molto più Stimolante Delle altre belle Nelle altre belle Non succedeva un cazzo C'era quel merda di cane Che usceva ogni tanto Qui almeno C'è un po' di È lì? Intanto guardo Fuori dalla finestra Hello C'è un silenzio Che non Che non mi piace C'è un silenzio Importante ragazzi Senso Importantissimo Vado in Ava scoperta Minchia 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 Il telefono Mi ha fatto morire Dentro un po' Sono un attimo Uscito a controllare Ce lo vedo Mi immagino già la situazione Dai ragazzi Facciamogli uno scherzo Siete pronti Allora adesso esco Guarda che tu non mi ci freghi Sono andato due volte Io Ti vedo Ah ma mi hai visto Ma mi hai visto Chi dice che sono io Ti conosco da trentanti Conosco da prima Che ti dici che sono io Che ti dici che sono io Comunque Questa interazione Che abbiamo avuto con il mostro Mi ha ricordato Quella volta in cui ho incontrato Bubolo Il nostro moderatore napoletano La scena è stata uguale Napoletano Napoletano È la caratteristica Devo specificarlo Permesso È stato uguale Mi serve un'altra torcia E dell'acqua Hello Sì ragazzi È andata proprio così Si è conosciuti Oh Ugual Hello Poi dopo Hello Potrebbe essere Ovunque Beh se vediamo Aspetta 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 Lo sento Allora Il nostro unico Il nostro unica salvezza Andrea è Morire Allora mi serve la torcia A me Eccola qui Allora Teniamo la torcia accesa Perché è l'unico modo Che abbiamo per riconoscere Ma chiudi Sta cazzo di porta C'è un maniaco Assetato Che ci si aggira Per le cazze Lui entra Lascia la porta aperta Ficca Poi ci chiediamo perché Perché permettiamo queste cose E se compare con la torcia Cosa facciamo La prendiamo in culo Eh Hello Guarda che se la spengo Guarda che se la spengo La mia ombra Non ha la torcia Ma in realtà ce l'ho in mano Guarda Non ho capito un cazzo Guarda Vedi che c'è la torcia Le istruzioni dell'Ikea Non si capisce Cosa vuol dire Se la spengo Sembra che c'ho la torcia Ma non ce l'ho Eccolo lì Guarda Eccolo lì E' passato lì E' passato Come passa E' puggese E' passato Porca puttana Ma sei sicura? Vai via Era dentro l'angolo E mi ha fatto una guata Della stanza Ma fanculo Mi aspettava Ma sei morto? I noge I noge I noge I noge Sì E' finita Parle lì E lo Tira fuori il badge E tira fuori il badge E lo E lo Se ne sta andando Guarda che culo importante Fa vedere Cioè non il culo Se ne sta andando Ah si è messo di appisciare Andrea Non disturbiamolo Ok ha fatto Va via Perfetto Cammina come me Dopo Dopo quell'aperitivo incredibile Sì sì Fiero Fiero di essere Un parcheggiatore comunque Una classica interazione con un parcheggiatore Scusi non ho pagato Non ho pagato le due ore Quando notamente sbrunzo Che fumavo due cigarette alla volta Incredibile Oh comunque se ne va veramente Ma ha le Nike Ai piedi Aspetta che vado a chiedere dove l'ha comprata Cammina aiuto Hello Hello Ma ci sente? Sì non lo so Allora teniamolo d'occhio Però non si è mutato in uno di noi Eh no perché una volta che l'abbiamo scoperto Allora tieni Tieni le porte aperte Perché lui non ha il pollice opponibile È chiaro Ok Quindi tutte le zone che abbiamo visto Non è come i veloci Raptor In Jurassic Park No lì non puoi batterli Allora tutte le porte che abbiamo visto Teniamo le porte aperte Teniamo le porte aperte Così capiamo che cazzo fare Verso dei veloci Rattore Pure No mi dice se è corrotto l'audio Peccato Peccato Attenzione che può Occhio che dietro gli era dietro l'angolo Prima Malaf Malaf È lì Dove Ho visto Ho visto qualcosa a muoversi Ti giuro Qua dietro La porta è aperta Non è che è entrato dentro Ma se lo chiudiamo dentro Aspetta Aspetta Sta arrivando Sta arrivando Come sta arrivando L'ho sentito Orco 2 L'ho sentito Hello E come facciamo a uscirne Abbiamo stamina infinita Vai chiudi Vai Che bello Che carino Guarda controlli Badge Hello E stiamo vivendo È un loop Andrea Questo qui è Un deja vu Hello Aspetta che si sente Salve Salve Eh no Perché la finestra è chiusa Sembra un bodybuilder Alle quale ha nasciulato Le proteine Ma sì Guarda Ecco che Guarda come Il tizio Il tizio Il tizio Ha da fare la spesa L'essere lunga E fa il fico Allora lui va di là Noi andiamo di qua Che idea del cazzo Ma tieni la porta Aperta Delle stanze Che abbiamo visionato Così che se siamo Nella merda Entriamo dentro una porta Che già conosciamo Eh già E siamo salvi Hello Ma non possiamo Riutilizzare l'ascensore E vivere d'ora in poi Dentro l'ascensore Ogni volta che si riapre Vi schiacci il tasto È proprio vero Berremo la condensa Dai muri Mangeremo Mangeremo Le nostre unghie Mangeremo carne umana Hello Qua 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 Eh qua 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 Perfetto Acqua Ci metto anch'io Questa stanza è gialla Eh sì Prendiamo un'altra torchlight Sì sì Così me la infigli Dove merito Minchia basta Andrea Basta Infigli dove merito Può essere qualsiasi cosa In tasca sì Esatto Anche in saccoccio Sporgiti È dietro di te Hello È lì È lì Lo vedi Dove È lì Passato lì In mezzo a quelle due colonne L'avanti Ok È solo uno Entra e ripulisci Vai Non c'è niente qua Sta arrivando Sta girando È attonito Eccolo Si è fermato di nuovo Sta pensando Ma il latte l'ho preso Si è accorto dopo cinque Ci ha visto Ci ha visto Ecco Si dimentica Si è ricordato il latte Sta correndo in corsia A prendere Entra qua dentro Chiudi Oh figa Può vedere che sta porta Magicamente la sa aprire Magari Siamo separati Andrea In due stanze diverse C'è Entra la parte di questo muro Io sono il figlio Il figlio mal cacato Con la stanza più piccola Sei la femmina Della famiglia Palese Attenzione Quindi le femmine Quindi Hello Sei elegante Guarda dov'è Ma minchia E mo siamo fottuti Perché può aver cambiato Il pattern Non l'abbiamo visto Tira fuori Tira fuori i documenti Allora Andrea No si si sono io Andrea Dove le torci in mano Eccolo lì E' lui E' un impiccato Che cazzo è Corri 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 Entra Con tu calma Andrea Chiudi Porco giudio Ma tutto bene Calmi Fatto un attimo Di defiance Adesso riusciamo Adesso troviamo la quadra Adesso Voglio provare ad aprire Per vedere In faccia Eh Voglio provare ad aprire Andrea non ha una faccia Che cazzo puoi vedere No per vedere Per vedere dove va Ma sei E' lì Adesso lo porta via qualcosa Per l'inquadratura horror Ma usciamo da sta cazzo di Dov'è? Proviamo ad andare a piccola Proviamo ad andare a furtivi Scusa Vieni Oddio Il tuo personaggio Sembra che stia cercando Tipo un euro per terra Guarda Sì sto guardando anch'io Effettivamente Andrei perso le lenti a contatto Eccolo Lo vedo Ma forse se stiamo nel buio Lui non ci vede Come si è messo A sanità mentale Malissimo Andrea Ah devo bere Eh bevi La Attenzione Oh cazzo Non l'ho reciclato Via Andrea Entra Chiudo io Vabbè Ciao Andrea Ma visto a me Non mi ha visto No ma visto invece Perfetto Hello Excuse me Ma che cazzo è toccato Ma perché c'è con l'excuse me Hello È molto educato Hello Che migli ho toccato ragazzi Sta parlando Vedete si sta volvendo Sta parlando Andrea Allora l'ho bloccato Nella stanza di là Probabilmente Perché No no Andrea Sta parlando Attenzione Ma se faccio così No non funziona Peccato Excuse me Così funziona Hello Sto schicciando il tasto Per interagire col mostro Al tasto V Di interagisci Hello Io non ce la faccio da sola A far sta roba Mi 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 Ma porca puttana No Dov'è Sarà tornato lì Non può essere così Intelligente Hello Per me è chiuso dentro Mi sa Io Spara una corda Spara Spara una corda vocale Contro lo schermo Io ve lo dico È lui Come è lui Non lo so Ma certo Che è lui Hello 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 Sei i pappagalli Quelli lì Hello 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 Hi Hello Motherfuck Ultimamente ho un vizio Prima di andare a dormire Vedere i panda Che sgranocchiano il bambù Che fanno tipo Merre col bambù Non ce li hai mai visti Sono un po' Concentrato in questo momento Sto muovendo Rasoterra Rasente Ridicolo direi Torcia spenta Allora se succede qualcosa mi infilo in quella porta Dov'è? No Vaffanculo Chi è? Grazie Push Non ce la faccio Ragazzi non ce la faccio In due si Da solo è la fine Hai paura? Micchia Metto un'ansia devastante Perché è silenzioso Cioè ti Per carità Prima di mangiarti Te lo dice Prima di mangiarti Dice Hello Eh sbocco Ho visto un'ombra Per un attimo È lui È lui È lui È lui È lui Guarda che Sta zi Fanculo Ah sono di nuovo dentro sta porta Chiave Ma c'è la chiave qua Ma sei un cretino Ma c'è la cazzo di chiave qua dentro Ma non siamo mai entrati qui È tutto chiuso Non vedi che c'è tutto da troppare È tutto chiuso qua No 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 ragazzi mi serve Aspetta ci deve essere un'altra chiave Ci sono più chiave Oh no Abbiamo quattro chiave Che è in cavo di una banca Che saranno quattro chiavi Che ritorno su da sola E come faccio È impossibile Andremo Abbiamo perso il livello Perché bisogna sempre forse in due Bisogna insieme Tirare una chiave Vada a cercare Ma c'è Andrà Le chiavi erano tutte in sta stanza Ma non è possibile E invece Però aspetta Ci sono tre chiavi No Quattro chiavi Adesso Apro quella porta E c'è dietro lui Hello Hello Mi manca una chiave O no Figa No L'altra chiave Dov'è ragazzi Non ce la faccio Provo così Esci 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 Andrea Lo sai Una chiave sta Dove Andrea Ha chiuso il mostro Andrea ha chiuso il mostro Dove È morto Andrea Il mostro che ha chiuso Andrea Io l'ho chiuso In quella stanza Il mostro è lì dentro Fidati Nella stanza dove sono morto io Perché ho chiuso la porta Lui è entrato Io ho chiuso la porta E sono rientrappolato Quindi è lì dentro Non ci credo Sì fidati Ma dove sono morto io È lì dentro Lui Dove cazzo sei morto tu Allora Torna Vai Di qua A sinistra Poi ancora a sinistra Ritorna La stanza di prima La porta chiusa È lì dentro Figa no C'è la tua testa Che è finita Sopra Lui è là dentro Dentro Eh vedi Te l'ho chiuso dentro Poi di così Direi che mi ha sentito Abbiamo vinto ragazzi Ma che aprila Devo trovare l'altra chiave Forse trovo tutte le chiavi Ce la faccio Vedete Questo significa morire Per qualcosa ragazzi Vabbè hai fatto bene Andrea Ottima strategia Balare Barare Questa porta L'abbiamo già vista Ma a questo punto Mi sa che una delle chiavi È dentro Di qua No Certo la chiave Deve essere proprio Nella stanza Dove lui ha chiuso il mostro Chi cazzo ci crede Ma come fa la chiave Ad esserla dentro ragazzi Secondo quale vostra Quale cazzo È l'unica stanza Che manca Ma non è vero Non abbiamo controllato niente Fatti inseguire Rinasconderti un'altra stanza Ma non è assolutamente vero Lì c'è un'altra stanza Lì c'è un'altra stanza Che non abbiamo visto Ad esempio Vai vedere Tanto non c'è più Quanto pare È l'intrappolato Guarda quante stanze ci sono Sto tagliando addosso Perché non mi fido Che quello non riesca Sì sì Magari C'è un'altra stanza Chiusa lì Ah no Sono tutte aperte È vero Cazzo L'unica stanza è quella Ma sei uno stronzo L'hai chiuso nell'unica stanza Dove dobbiamo andare L'ho fatto apposta E allora Andrea Devo morire No Basta che lo apri Apri e scappa Ma non ce la faccio Non ne ho le competenze Apri e scappa Apri e scappa Infilati qua dentro E chiuditi Aspetti che ti sa Ma queste Scusate Ma qua non c'è nessuna stanza Ma veramente Ma scusatemi Qua C'è una stanza Ma non ci sarà niente Ma ce n'è un altro Hello Sì sì Stai attento Stai attento Saluto agghiacciante Allora Sette Sette Allora Con calma ragazzi Ne uscirò Ok No Deve esserci Deve esserci un'altra chiave Hello Non c'è Non c'è un'altra chiave Devi andar lì Sono andato in dell'aria Buio Morte Morte Ovunque Non è che il mostro Ha l'altra chiave Ma sì Ce l'ha in tasca Non stavo assolutamente Per dire in culo Ragazzi Ce l'ha inculcato dentro Sì 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 Ce l'ha Inside Però è poco terrificante Perché è alto Ma non è magro Fosse stato magro Sarebbe stato L'inquetudine La formula Sì Sai che mi ricorda Quella corsa Quando ti corre incontro Ti ricordi Quelle guardie di Skyrim Che abbiamo beccato Quando siamo saliti Su un palazzo Della banca Che ci hanno corso incontro Uguale a sto mostro Te ricordi Apri Apri un cazzo Apri Apri e corri Apri e corri Tanto guardo io dietro di te Di qui dov'è Vai Apri e corri Vai 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 Non è ancora uscito È ancora lì Girati Non è ancora uscito Fidati Non ti manca grato Però è lì L'ho visto È il tipo di spalle Che sta guardando il mio corpo Di farlo uscire Eccolo È tipo Che sta facendo Che sta facendo Che sta facendo il mio corpo Eh Andrea Cose indicibili È la fine È la fine Devi agrarlo Perché non urla Non lo so ragazzi Devo averlo Ignorato Perché non l'ha aggrato Cazzo si fanno agrare Una roba del genere Attenzione Ancora 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 Ma è gliciato con la porta È gliciato con la porta Ma che bello Mi sembra che imparano A notare a tre anni Prova a passarci vicino Non ti fai niente Certo Vai vai Fa Per la scienza Però ragazzi Devo essere sincero Che Ho fatto un buon lavoro Certo che Mostra il badge Ma come cazzo fai A riconoscerlo Cioè nel senso Sembra una muola Sembra una mosca Infine Intrappolata Nella Sì mi fa quasi bene Andrea La carta moschicida Mi fa tenerezza Poi hai questi occhi Illuminescenti Entra nella stanza E vedi se c'è la chiave I amici lo chiamano Leporino Per via del labbro Come vedete Però c'è questo sorriso Evidentemente Si è preso da mamma Che Vabbè ragazzi Muoio Che cazzo vi devo dire Perché passo di là E mi ammazza No no fidati Non sfida di niente E siamo sicuri Che là dentro c'è la chiave Io con il presentimento Che adesso crepo per nulla Non succede niente Corro eh Guarda vedi L'hai proprio rotto L'hai proprio fermato lì Comunque non c'è niente Quanto ragazzi Siete una cosa Era ovvio Che non c'era niente Era ovvio Vabbè è rotto il mostro Ma Beh ragazzi Lasciamolo lì È fatta È fatta Come no È lì Ma non c'è ragazzi No ma è allucinante Anche di fronte all'evidenza Sì Negate l'evidenza Siete proprio delle tonne Sì sì Può veramente scendere Un uomo dal cielo Impicchiata col pugno così Ricoperto di fiamme Urlando Sono Cristo E loro non ci credono Comunque Delle donne Io sono una volta nella vita Passi davanti ai centri commerciali Chiusi Con delle donne in macchina È chiuso oggi No Mica è chiuso E beh perché decidono loro Come no È sotto il mostro Attenzione Fatti uccidere Per forza ragazzi Perché secondo me Si è bugato qualcosa Vabbè Andiamo E andiamo Guarda nel contatore Perché c'è un contratto Questi dite Maazzi aspetta Forse la svolta Ma no Ma non credo ragazzi Non si può aprire Col tasto F di apri Non si apre Sto fiume di Che è Che c'è Ok ho poca sanità mentale E mi sta venendo Ma perché mi sei stato vicino Eh ma minchia Beh effettivamente Fa un certo effetto Vedere un mostro Che nuota in una porta Figa Non deve farlo Scusate ragazzi Sono allergico Alla sanità mentale Ho avuto un mental breakdown Comunque In inglese La stanza a fianco al mostro C'ero io ragazzi Cioè Le malattie in inglese Hanno tutto un altro Fascino In home Mental breakdown Nell'armadio Ci ho già controllato Ragazzi Guardalo Attenzione Per un attimo Ha detto Ma è lui? Adesso vuol dire che Non c'è qui ragazzi Con estrema calma E cautela Ragazzi Come cazzo facciamo? Vediamo quanto mi è scesa La sanità mentale Kik Kik Andrea Kik Kik Non posso bere l'acqua Per quale motivo Non posso bere l'acqua? Devo spostarla? Eh ma minchia Il coglione Olè Eh ragazzi Niente Mi faccio ammazzare Perché qua palesemente C'è un bug Non è che c'è tanto Sbagalo Sbagalo Sì sì Eh È più forte di lui Ma no Allora entra dentro E chiudila da dentro Ma certo Entra dentro Ma basta che mi avvicino Molto No no Non vedi che non ti agg Sei proprio rotto Aspetta Ok Sei da solo con lui Che dove siete Infine alle poste Ma non guardagli il culo Andrea è nudo Adesso Non è colpa mia È umano Capisci Non è che Mi peghi così sulla spalla Fagli scusi Sulla spalla Se accorgi di te ti mangio Guarda ma sembrate in fila Fuori dal censo Eh Andrea un attimo Occupato Vabbè senti Te dagli una pacca sul culo Excuse me Vabbè senti Sei nervosito Sei nervosito Perché hai dato la pacca sul culo Sei nervosito Sei nervosito Ma io mi sono anche scusato Però Eh non ci fa Eh non ci fa Vai Allora Andrea Per l'amor del cielo Le porte Le chiavi Sono tutte in una stanza sola È quella stanza lì Quindi troviamo delle Una torcia Per me Per te Qui c'è la torcia C'è una torcia Cerca la torcia Di abastavdo Ecco sì Ecco sì Cos'è che fai Il sabato sera Andrea Guardiamo a disfarci Di abastavdo Allora qua Niente Qua niente Qua niente Qua Hello Qui Ah lì è l'urinatorio Perfetto Apri apri Aff Allora con calma Con calma Lui è qua Quindi io direi Di non andare di là All'altra volta All'altra volta Ma ha fatto la guato lì Non andiamo di là Trust me Trust Però devo essere sincero Che è molto più inquietante Quando era come noi Adesso che sappiamo Che non è come noi Adesso che sappiamo Che è diverso Forse perché ci sono due giocatori Il gioco calcola Che Quelli lì sono Gli stanzini gialli Che abbiamo visto prima E lì dovrebbe Forse un'altra Flashlight Il nostro è di là Ti copro le spalle vai Sì ti copro le spalle Guarda proprio mi fido Allora vado eh Ehi Ah sera Allora Ci appo su Una bottiglietta d'acqua Una flashlight L'altra la prendo su Poi te la porto Tu rimani lì a visionare Ce l'ho la Ce l'ho l'acqua No non ce l'ho puoi avere Sei morto Ah te la sei già presa Quante acque hai Zero Allora deciditi Ce l'ho l'acqua Quanti ne hai Zero Ma visto T'ha visto No che è passato Eh ma non farti vedere È passato al di là Ti lancio Che è successo Niente Sì tu Oh Ti lancio Io porco giù Ma che cazzo succede Ti lancio Drop item Vai In cool Vabbè presa È qua dietro comunque Vieni seguimi No non fai Ma secondo me Accendere la torcia Lo trigger Vieni Ma aspetta cazzo Fammi controllare Cosa c'è qua Figa che brutta idea Che brutta brutta idea Che brutta idea Che brutta idea Allora vieni Molto lentamente Verso di me Bravo 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 Barbo non c'è per il booster Grazie mille bestia C'è grazie per le sub Perdonatemi Siamo un tantinello presi Ok mi sporgo Rainbow Six Non è che ti sporgi Sei pronto a fare O una capriola O uno scatto Allo 100 metri all'ora Fermo Non muoverti Non muoverti Non muoverti Sì ma Cristo Andrea sei inquietante Sembra un Carlino Che sta cagando Lo vedi Forse lo vedi anche tu adesso No non puoi vederlo Ok è passato Seguimi Maestro Seguimi molto lentamente Non c'era la chiave ragazzi Ma non c'era la chiave lì La chiave dentro una Oh Oddio Scena bellissima Ok Excuse me Scena bellissima Ok l'ho chiuso fuori Comunque Io sono nella stanza delle chiavi Comunque Ce l'ho fatta Certo certo sto bene Sto bene Perfetto Sto bene Scooby Dooby Doo Where are you? La stessa scena Però che adesso Adesso Scooby Doo Non è più un cane E il protagonista è nero Porco Hai visto la porta dove sono entrato io? Dimmi Devi entrare in quella porta lì Sai che ho sognato che ci bannavano? Ah Sì Quindi mi sa che Per colpa tua Tra l'altro Ci tocca Dove sei? Qua Vieni Dove? Qua mi vedi? No Non sono io Andrea scappa Ok chi cazzo Sono io Io sono chiuso in una stanza Ti giuro Ti giuro È lì che mi guarda Andrea scappa Non sono io Perché giù Sono dentro Andrea sono dentro due Uno dei due stanzetti gialli Quello di Quello dei sinistri Allora esci Esci Fai la strada di prima Fai la strada di esci Tira fuori la torcia Accendila perché io non mi fido Ok sì 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 Certo certo Andrea No aspetta aspetta Figa Aspetta Minchia America Sniper La stessa tensione È la madonna Sì 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 Sei lì che stai per premere il grilletto No aspetta Aspetta Fai la strada di prima Fai la strada di prima Fai la strada di prima E sporgi Nel partiere Sì ma dov'è Nel partiere Come cazzo parli Fai la strada di prima Nel partiere Lo vedo è qua Vieni Dove Vai corri corri Verso di prima Verso di prima Ma che cazzo di lingua è Atlantide Dov'era un prima La città perduta Parla proprio Una fusione di tutti i idiomi Sono qui io Guarda Mi vedi Vieni qua Venimo verso di me Figa non mi fido Veloce corri Ok sei pronto Corri seguimi Vai entra Minchia Chiudi Ok 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 Adesso la roba delle chiavi Andrea Ah ma sono già inserite Oh merda Oh merda Una l'ho girata L'altra Eh no però Andrea Vabbè forse ben girarne solo due Allora Ma ne manca una Ma no ma Allora siamo in due giocatori Sono quattro chiavi Ci sono solo due giocatori Quindi due giocatori Allora Allora al mio via Uno Via Hai girata? Sì Eh no Vedi nel servuto Dov'è l'altra ragazzi? Ecco Ok ok Allora Beh Scusami Era lì anche l'altra volta Penso di sì Allora sei pronto Io non giro due Non giro le altre due Non tirarle tutte vai Aspetta Vai Tira Ottimo Adesso esce da qui Ah le Cantine dei vini Sì ma quello apre le porte Ah figa Abbiamo superato un altro live Andrea ce la stiamo facendo Eh zitti zitti Come sei messo sanità mentale Benissimo Benissimo Borga puddana Non ho le torce Salve ci sono un globo La torcia E io non ti apro Non ce l'ho Eh scusa ma è il cibo? Non ho ordinato io E chi l'ha ordinato? Lui Eh sì Excuse me Hello Hello Allora attenzione Andrea Perché questo è un altro livello Ed è più inquietante E non ce l'ho la torcia Che cazzo è quella roba Ce l'ho io la torcia Sarà qua Qua c'è una torcia E delle lattine Quanta acqua Acqua Prendi Prendi un po' d'acqua Io ne ho preso due Dov'è la torcia? Qua la torcia Andrea Qui 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 Questa piglio io Cazzo vi devo dire Sto qua non Non beve Non la tira fuori Non la tira fuori Eh vabbè Oh no I suoni Che suoni bellissimi Ma qua cosa c'è? Com'è il tasto Per torciare Ok Pronto? Vai Exit Ma ancora? Fica no Perché hai tirato fuori La pistola No ti prego No Fica no Non posso vivere così io No Andrea C'è No Ah c'è una porta qua Fica Osho all'acqua Farà rumore Li farà No ragazzi Mi svengo I'm passing out I'm gone Col video Ottimo Bello il suo castigo Sostanza del castigo Ok proviamo di qua Tu controlla l'altro lato Io apro le porte E per forza Andrea Dobbiamo muoverci Ah no ok Un'ombra Viene a vedere qua Che cazzo di spavento Ok Tu guarda a destra Io vado dritto Scusami E lo Faccio Ma va a cagare Ma vado a fanculo Proprio Uccidi l'altro Eh si Cazzo Tira fuori Tira fuori Il ferro Uccidi l'altro Tira fuori Ma dove cazzo Siamo Giovanni In Così è la vita Ma dove cazzo Siamo Vinchia no Giovanni fa ridere Ogni volta Alla fine del film Cioè basta che stia fermo Quell'uomo Incredibile Ok qua si scende Andrea Qua si scende In chiedimi se sono felice E la frase che va Per ridere Andrea concentrati Concentrati Or dio Or dio Or dio Or dio Or dio Ho perso Ho perso l'anima Non ho più Non ho più Non ho più Beh Hey Che cazzo è successo Sei entrato con noi Sei infrattato con noi Mamma mi ha fatto ridere Che sei morto Hey Hey Ci diverte Comunque ci diverte Sono contento Sono contento Almeno lui ci diverte Aspetta che corro A prendere la torcia Comunque gli americani E ragazzi A confondere la benzina Con il latte Perché lo tengo Nello stesso contenitore Secondo voi Che cos'è questo L'unico modo È stappare e bere Un po' come sta facendo Andreina In progetto zumbot Che ha messo Le bottiglie di benzina In frigo Quindi adesso abbiamo Solo una la torcia In sostanza Non c'è Non c'è la torcia Non l'ho raccolta Ah neanche Capito Bene Ma Andrea che bravo È l'unico È l'unico videogiocatore Che anziché prendere la roba Degli scaffali Mette la roba sugli scaffali Capito Bevo Come sei messo a vita Molto bene Molto bene Educato L'importante è l'educazione Ragazzi Senza torcia Mi viene un infarto Prima del tempo Che in realtà no Perché se c'è il mostro Non lo vedi Quindi non ti accorgi Questo gabbettone Che parte ogni volta Che schiacci una pozzanghera È normale? Io gli lancio la lattina in faccia Comunque Io te lo dico Ma che è Qua siamo morti? Qua è dove siamo morti? Qua è dove sono morto? Comunque lui ha gli occhi affanali Quindi non Non basso Nel tunnel Nel traforo del frejus Il problema Il problema Il problema è capire Occhio occhio È sopravvivere Il segreto per vivere è Morire Esatto Queste rocce sono rocce Questi fiumi sono Fiume Ci sono Castoschi Castaschi Iodas Ma perché si accende la luce Un metro più là? Allora se rivedo gli occhi Fattene 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 Ci siamo Ci siamo Ci siamo Ci si osci Che suoni sono però Ma hai chiuso fuori Ma hai chiuso fuori Andrea posso soltanto rispondere così Excuse me Ma non ti vergogno Comunque sono chiuso Sono chiuso Oh no Mi parla Odio quando mi parla È interagibile Come quel cazzo di rossetti Che se gli premi il pancino Ti sbranano Che Mi ricordo Ti ricordi la bambola Quella che potevi darle Darle da mangiare Tipo le davi La sua pappa Andrea non era una bambola Te l'ho detto Era una bambina Che abbiamo trovato Dentro un cassetto Limondizio Ti giuro Quella bambola L'hanno tolta Andrea no fidati Poi meno male Che ho chiamato i pompieri No no Con la bambola L'hanno tolta dal commercio Perché Tipo se gli finivano le dita dentro I capelli delle bambine O strappava I capelli O rompeva le dita Quindi Bellissimi I giochi I giochi della nostra infanzia È tutto a posto Contestualizza Abbiamo salvato una vita Non è colpa nostra Se ci sono Sti giocattoli Eh? Non è colpa nostra Sti giocattoli Non è colpa nostra ragazzi Comunque fatela differenziata Vabbè esci Esci Ma esci cosa? Esci Excuse me Minchia Mi ero buggato nella porta Perché quando esco Niente Sono buggato ragazzi Quando esco C'è questo zoom tattico Sul pomello Ma non è che lui È dentro di me No Che cosa vuol dire Lui è dentro di me Non posso riuscire Ragazzi Che bei bug Interessanti Comunque Non puoi regettare Eh Resettiamo Restart level Excuse me Ci sei? Eh sì 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 andrea porca troia È questo Questo unique physique Torcia Torcia Voglio la torcia Non si può Allora lui compare Dal piano terra Dal piano sotto Come facciamo Perché dobbiamo attirarlo E scappare Appena arriva lì Appena arriva lì Non scappiamo Ma noi abbiamo Stamina infinita Andrea scusami Prima di aprire Ok vai facciamo un test Vai Stamina infinita Col corcio sul posto Vai No ok Mi stanco Che cazzo Ti hai fatto due giri In una stanza di 10 metri È sbombadissimo Excuse me Pronto Bapri Eh bapri Bapri Col tasto I Accediamo Che cazzo è sto suono Ah è la vale che sbocco È il suono del diavolo Diavolo È venuto un infarto No Andrea Non mi fa più effetto ormai Ok Non è più nulla Allora C'ho C'ho le Perché non sono latine Sembrano pile Allora è palese Che in questo livello Queste stanze sono fatte Per Paggarci dentro No per scappare C'è uno Uno scappa E muore E l'altro Dove cazzo sei andato Lo sono andato a tirare Di già Ma no 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 Non hai avuto ansia No Ormai Excuse me Hai sbagliato strada comunque È di qua Sembra il garage Che aveva mio nonno Sì sì c'è il tipico Il tipico odore da garage Parage Mi ricordo mio nonno Che mi fissava Sulla Sulla punto Excuse me È qui Lì c'è una Lì c'è una luce Che cazzo è Se andiamo di là Senza attirare il mostro Figa sei un imbecillo Dovrebbe c'è Dovrebbe c'è Dovrebbe c'è l'acqua Ah è la porta di prima L'hai triggerato? No Non c'era Come non c'è Minchia no Questa è ancora più inquietante Non c'è Quando non c'è il mostro Vuol dire dov'è il mostro? Non lo so Ma che cazzo tiri fuori il badge Allora Andrea È molto semplice in realtà la mappa Se noi andiamo dritti per dritti C'è già la discesa Quindi se noi la tiriamo E corriamo in questa Non so perché C'ho paura Hai capito È camminato nel buio Nella valle oscura Anche se camminasci nella valle oscura Non temerei alcun male Perché ho te al mio fianco Grazie Sono molto onorato Esci esci porco Anche questo fa parte della preghiera Si si fa parte della bibbia Matteo Secondo Matteo Esci esci porco Eccolo Minchia ma è incredibile Lascialo passare Lascialo passare A posto Guarda sta andando Sta andando a controllare il microonde Excuse me La classica è camminata dal microonde Ok Andrea Tu gira a destra Sei pronto? Sì Non mi chiede Non lo so Via Tenta torce è più facile Buon dio Prendi lui Prendi lui C'era con me ovviamente Figurati bastardi Prendi lui È chiuso Sei morto? Certo sono morto per te Ma questa non è un bug Andrea È l'animazione che ti nascondi dentro L'animazione che ti nascondi dentro In che senso? Comunque ragazzi Non so se avete sentito Ma quello era il caratteristico suono Il richiamo delle balene Sentite che pace Nei mari e negli oceani Questi suoni Ma dove sei tu? Io ti vedo spiaccicato Dentro un muro Io sono il muro Sono sempre Me l'ha sempre detto Sì sì Esci da lì Esci da lì Carattere stoico Fidati non c'è più Sì certo Te lo dico io Fidati sto vedendo anche fuori Perché mi sei glitchata la visuale Bravo Vedi È andato di là Dove stai guardando tu Da quella direzione Lì è andato Voglio vivere questo istante Per sempre Voglio vivere in questo istante Guardami le spalle Sì sì sto guardando È andato di là Dove stai In quel corridoio Che stai fissando Là è andato Bravo Quindi occhio Perché continua a correre Il mio personaggio Devo aver schiacciato Il tasto di corsa automatico Aspetta c'è un C'è una strana porta qui È una porta normalissima Hello Hello Lo senti Lo sento camminare Che cazzo dici Ho sentito camminare Che cazzo dici Ho sentito nei passi Che cazzo dici Ti giuro Ho sentito dei footsteps Vabbè Beviamo La faccia sua Madonna Madonna Andrea guarda Guarda attorno Sto guardando Stai facendo un cazzo Te lo dico io C'è una porta diversa Dal solito Ma non è vero Oh minchia era lì Andrea ho visto gli occhi Hai visto gli occhi Ho visto gli occhi Gli occhi del basilisco È lì che ti fissava nel buio Siamo ritornati in questa stanza Qui c'è un pacchetto di malboro A liberi Fragile Ah no ma è una luce Ragazzi Andrea Andrea Vado Guarda eh Ma non è qui Fidat Tu sei Qui dove tu sei esploso Vai a destra Qua c'è il mio corpo Scendi qua Bello al buio Ma non vedo un cazzo Ok vai vai Ce lo stai seminando Bravo Ma che lo stai semina Ah ah Bravo bravo Non vedo nulla Ma che ho vinto Ma punto Porco porco dici dove dove Così nel dubbio attiva un ascensore Vedi che l'hai seminato Te l'ho detto Ci sono anch'io vedi Hai vinto Ok Ok Andrea Lo continueremo la prossima volta Bestiace Hai vinto Io sono 23 e 3 Miche ma sono Cioè io sono un orologio Vabbè a che gare Ok quanto hai nell'inventario Che c'è Mi sei prederubato Sì sì Cos'è nell'inventario Perché ormai funziona così Metropolitana a Milano Cos'hai nell'inventario Sì 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 Non c'è niente comunque Eh non c'è niente Non mi fido Suotalo Quit game Così anche Quando mi fermano in metropolitana Per chiedervi il portafoglio Fate quit game E Andrea sei sparito Come se non fossi mai esistito C'è proprio l'acqua Sei visto addirittura C'è sto gioco Ti sei mai chiesto Ti sei mai chiesto questa cosa qui Metti che c'è il letto di morte Appena muori Vedi Appena muori Chiudi gli occhi Che vedi Personaggio morto Iniziare una nuova partita Beh Sarebbe molto molto bello Tutto una grande realtà virtuale E non c'è Avrei voglia Sinceramente Allora Ma sì ma Salva in automatico Spero di sì Quindi quit the game Single play Multiplay Vediamo se mi fa ricontinua Create server O Christ No però Sì sì No però Credo abbia salvato il Cos'è The Hub Explore the levels And try to beat your times Coming soon Vengo Vengo presto C'è scritto qua Esplora il livello E cerca di battere il tuo tempo Questa è la traduzione ragazzi Exit to desktop No mi sono freggiato Che stavo contro Stavo orando M'era un attimo incantato Con l'assa del micro Che cazzo è successo Scusate Dove sei? Andrea Non ti spiego neanche Dove c'è? Non c'è molto dati Aspetta Aspetta che qua è tutto Ah Come sempre È tutto Aspetta Madonna Allora Moderatori Moderatori Voglio un sondaggio a schermo Se si può Dove No lo faccio io Lo faccio io Bravo Da 1 a 10 Da 1 a 5 Valutate il gioco Dovete semplicemente Scrivere il numerino Da 1 a 5 Non adesso Aspettate Quando parte a schermo Vedrete Votate anche voi Votate a caso Votate Scrive di numeri Quanto è bel Ma che è sto font Non so Ma è tutto sbagliato Ma che c'è sto font Vabbè chi se ne frega Votate 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 Sembra Sei diventato Un magazzino Sto schermo 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 È la prova del cuoco Ragazzi Votate 1 per 1 2 per 3 3 per 2 4 per 5 5 per 1 Votate mi raccomando 1 sta 3 2 sta 4 5 sta 1 2 sta 2 3 sta nessuno Ho trovato Nick quasi senza testa Non me ne frega un cazzo Di te e di Hogwarts Legacy Attenzione Attenzione di Nick Anche Non me ne frega un cazzo Attenzione però Perché i voti se la giostrano E per adesso Il 5 Sta andando per la maggiore Ma Ma Ride per questo mazzore Questo è Fa ridere Questo è Questo è Che cazzo vuoi Perché vedo C'è un video di Kratos incinto Cazzo succede Attenzione È successo È successo ragazzi È doveva accadere Doveva accadere Si basta Sta durando anche fin troppo Vabbè 5 5 È piaciuto 5 È perfetto È piaciuto Perché sono Perché Perché sono meritava Grazie Memo Ragazzi Grazie per tutte le sub Gentilissimi Gentilissimi Regalato un abbonamento Trix Sai chi ringraziare Il counter comunque C'è impastato C'è impastato A livelli Importanti Non ho capito Il counter c'è impastato A livelli importanti C'è ma ancora 2006 Sì non so Che cazzo è successo Andrea Vabbè sti cazzi È un bug ragazzi È un bug Comunque immagino Ci stiamo avvicinando Alla cifra Detto ciò Grazie ragazzuoli Perché voglio Voglio e desidero Queste tre ore Di The Forest Francamente Tanto lo sapete Che è tutto una menzogna Le faremo lo stesso Queste tre ore Tutto una menzogna È palese Perché quando uscirà A The Forest Ragazzi Tutto una menzogna Io so che state aspettando La maratona Da cancellare la liga del culo Ma volete le piaghe da decupito Stare se desdraiati nel letto Io ce l'ho già le piaghe da decupito Ma guarda non avevo dubbi A guardare A guardare le live da telefonino Non va bene Non si fa Meglio una prima serata Ragazzi Che facciamo concorrenza Sanremo E tra l'altro Abbiamo vinto È finito È finito Perché l'abbiamo Abbiamo battuto È sempre così No ragazzi Non sta svapando Alla tosse Quello è Quello è Praticamente È il visuale Ti fa vedere Cosa succede Quando tossisci Quanta saliva butta fuori Ovviamente adesso Ci banneranno a TikTok Aspetta il controllo No ancora no Fai due tiri ancora Matte Brand Bard Grazie mille Allora ragazzi Domani Siateci Mi raccomando Che c'è una serata importante Sul VR Sulla realtà virtuale Il nostro Riva Special Guests Ci aiuterà A capire A guidarci All'acquisto Del Playstation Del Playstation VR Lui ha un'esperienza Illimitata Con tutto ciò Che è la realtà virtuale VR in generale Pensate che il suo motto È Io vivo In una realtà virtuale C'è proprio scritto Sulla schiena E niente Cazzeggiamo insieme E scopriamo un pochino di più Che cosa offre il mercato Riguardante questo Andrea si occuperà della parte Quella diciamo Un po' più esoterica Un po' anche più esotica Un po' anche più Come dire Ecci È uscito il trailer di Flash A me che cazzo Me ne frega Che cazzo ce ne frega No ma proprio Un personaggio Cosa fai Vado veloce Perfetto Ci sono altri sette supereroi Nel tuo stesso universo Che fanno meglio Il tuo lavoro Vado veloce Però solo quando serve Sì sì Assolutamente Assolutamente Quando nessuno mi guarda Sono velocissimo Sono invisibile Quando nessuno mi guarda I rappi chiede Io il sabato Sono costretto a guardare Le vecchie dirette Andrea fa i live anche il sabato Ragazzi ma mi lasciate vivere Porco d'inci E registro il giorno Quartz Legacy Faccio la radio la domenica Grazie Un giorno libero Posso averlo Grazie 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 Ti seguo e ti stimo Mi fai morire ogni volta Grazie Mi conviene risparmiare Per un pc competitivo Beh sì Dipende da competizione Vuoi fargli fare Io punterei Sulla competizione 300 metri Secondo me Sì Io direi che con una buona dieta Per me Un ottimo Un ottimo programma Sportivo Per me il tuo pc Può diventare effettivamente E' un'altra A parte gli scherzi Dipende da te Dipende quando vuoi spendere Ovviamente non pensare Che il pc Il pc da gaming Costi 600 euro Per un pc Da gaming dovete spendere Il minimo Ma anche lì A voi che state aspettando Il pc Aspettate ancora un po' Aspettate Se avete in programma Di farvi un computer Aspettate ancora un po' Perché noi stiamo Lavorando a qualcosa Ragazzi Stiamo lavorando Per voi Stiamo lavorando a un pc Stiamo lavorando per voi Quindi preparatevi Con i nostri amici Di pc frog Stiamo facendo qualche build Personalizzata Noi non ci guadagneremo Un cazzo ragazzi E' una cosa che vogliamo fare A voi community E però almeno Per lo meno potete Comprare qualcosa A buon prezzo Fatto da esperti Che vengono già la macchina performante Ma poi vedrete Ci saranno diverse configurazioni Potete scegliere il prezzo Qualità prezzo Che più vi aggrada E sarà finito Quindi aspettate ragazzi Chi è interessato Il case tra l'altro Se tutto va bene Il case sarà Sarà Come si chiama Targato Cop tv Serigrafato Serigrafato Cop tv C'è Che dire Me lo prendo anch'io Quel case Così qua Ebbene ci ho pensato anch'io Ci ho pensato anch'io C'è la 4090 Per te si No comunque ragazzi Sono tutti Sono Dopo Trova ragazzi Se sapete cercare La trovate Ci sono tutte quanti Diciamo le fasce di prezzo E le performance Però comunque Sono personalizzabili Completamente Dal momento in cui tu Acquisti quello che ti gradi Vuoi cambiare qualche componente Lo puoi fare Faremo anche un servizio Di consulenza su telegram Così decidete voi Anche come personalizzare Il pc Che avete preso Però ragazzi Aspettate Perché stiamo organizzando Il tutto Io ve lo dico Stiamo organizzando un botto di roba Ragazzi Un botto di roba Sta arrivando Stiamo organizzando un botto di roba Sì no Effettivamente ci stiamo andando da fare Per quest'anno ragazzuoli Vogliamo veramente Darvi di più Quindi Ah beh Ovviamente Ci sentiamo veramente in debito Con voi bestiacci Ovviamente Volevo Volevo spattare un mito Perché ho visto che molta gente Lo sta scrivendo nei direct E anche in alcuni commenti di youtube Ragazzi I video che vedete per abbonati su youtube Rimangono per abbonati Solo per due giorni Poi dopo Diventano visibili a tutti Perché comunque Vogliamo anche Incentivare gli abbonati di youtube Che stanno aumentando Un banchiere Quando parla di soldi Diventa serio Sì 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 Acqua Quindi Normalmente non faccio mai domande del genere Perché rispetto i vostri tempi In quanto creators e persone Posso sapere quando uscirà il prossimo Skizzo God of War Sì Domani No Dopo il 15 No no Domani No Domani è 14 Domani esce Il mio Hogwarts Legacy No Alle 10 e mezza Esce il mio God of War No no fidati Me lo ricordo Ho visto prima Tu l'hai messo il 15 Eh aspetta Ah quindi vuoi prenderti Vuoi prenderti il mio palcoscenico No alle 10 e 30 E se l'off screen Poi fate quel cazzo Allora Allora sposta Sposta No avevo scritto Sei tu che l'hai spostato Schifessa Non è vero Sì perché io mi ricordo perfettamente Domani alle 10 e 30 ragazzi God of War Mi raccomando Mi raccomando Mi raccomando perché sarà una parte interessante La catena alimentare Si chiama catena alimentare questo off screen Quindi sarà divertente E tra l'altro anche lì per youtube ragazzi Anche lì stiamo progettando di tutto e di più Veramente Quindi Quindi preparate Aspetta che sposto Aspetta che sposto Lo screen Quale? Il mio lo metto per il 15 Ma perché l'hai messo le 10 e 30? Sì Dovrebbe uscire ben insieme Uscirebbe C'è God of War Ah ecco perché E quindi tu hai spostato il mio Per far andare il tuo No io non ho spostato un cazzo Tu hai tolto God of War Per quella cacata di Hogwarts Legacy Io non ho spostato un cazzo Sei tu che sovrappenserò Avrei visto Hai tolto il re della guerra Per favorire i maghetti Incredibile Contro il mago Contro il mago Contro il mago Vabbè chi se ne frega Comunque Jumanji ragazzi Ve l'ho detto prima Lo facciamo questo sabato insieme Sarà una live speciale Ci mettiamo al banco O al banco Qua in cucina da me Facciamo una live Siateci anche sabato Siamo tutti quanti Se non avete un cazzo da fare Ragazzi E poi passiamo Passiamo il Il sabato sera in compagnia Buonanotte Che sta andando Buonanotte Ma lo finisci della stoffa Su PlayStation 5? L'ho già finito? Tra l'altro ragazzi E' vero Non vi ho parlato Non vi ho parlato Della quinta puntata Di The Last of Us Attenzione E' lunedì Cascasse il mondo Bisogna parlare Della quinta puntata Di The Last of Us Ragazzi Che puntatone incredibile Che puntatone incredibile Mi hanno ascoltato Partiamo da questo presupposto Mi hanno ascoltato Allora intanto Lo dico per Poi questo video Andrà a caricarlo su YouTube Perché questa è una risposta Intanto Per quelli che hanno visto Il commento Alla quarta puntata Sono stato blastato Ve lo dico con rispetto e amore Non avete capito un cazzo Non perché No no Con calma Io sono molto drastico Non Non perché Non perché Non sapete ascoltare Ma perché avete frainteso Perché la raivera decontestualizzata Era decontestualizzata Perché hanno frainteso Completamente quel cazzo Che stavo dicendo Io non stavo parlando Di tutta la serie Stavo parlando Solo della quarta puntata Perché io la serie De La Stoffa Mi sta piacendo E ve l'ho già detto Questa quarta puntata Però Mi aveva destabilizzato Perché era Per me Noiosa E completamente diversa Dava praticamente Un'altra Un'altra Sembrava un altro universo Rispetto al videogioco E non ha secondo me Molto senso Dal momento in cui Ha sempre seguito Il filone del videogioco Questa quarta puntata Era proprio una rivoluzione Però c'è da dire Che la quinta Nonostante ovviamente Segue le vicissitudini Della quarta puntata Bene o male Ritorno sui loro passi Quindi mostrano Le stesse dinamiche Del videogioco Ma in quell'universo Parallelo Che ci hanno fatto vedere Prima Quindi in episodio 4 Episodio 5 Non è male Non è male Intanto succede qualcosa Si mostra Un personale Non voglio fare spoiler Ma quello che si vede Si vede qualcosa Di importante Ragazzi Presente anche nel videogioco Presente anche nel videogioco Dopo Dopo faccio gli spoiler La sezione spoiler Ve la faccio dopo Dai così Non vi triggero E E niente Devo essere sincero Che mi ha Mi ha convinto Mi ha convinto Anche Anche L'aver scelto Vuoi sapere le differenze Andrea Tra i personaggi Henry e Sam Tu non sai neanche Chi cazzo sono Henry e Sam Te lo ricordi No Sono i due Ragazzi I due ragazzi I due ragazzi Di colore Si Sono i due fratelli Si si no Mi fa piacere Che li vai a identificare Come cazzo Li devo identificare Scusa I due fratelli I due fratelli Due fratelli Non perché sono di sangue Africa Fratelli Nel senso che sono africano I due fratelli Si capito I due brother I due fratelli I due bro I due bro Esatto Esatto E Ragazzi Non dite puttana Non dite puttana Il figlio Il fratellino minore Nella serie L'ha fatto sordo Muto Mi domani Perché Bravo Perché Cioè quello Il mio cervello Stai chiedendo Perché Bravo Me lo son chiesto Anch'io Per questo La quinta stagione La quinta La quarta puntata Eh beh Ci sa anche Che vogliono farlo Diverso dal video gioco Però perché Cioè Ti giuro Non ha un cazzo Penso perché Dovevano creare Un pochino più di tenerezza Ma andava già benissimo Come era prima Franchamente Ma non mi criti Nelle macce Poverazzo Tra l'altro Aspetta Perché Con sta cazzata Che l'han fatto Sordomuto Secondo me Sono andati a togliere Un pathos Tutto il pathos Che c'era nella scena finale Tra Ellie e Sam Che c'è nel videogioco Ragazzi Se l'avete visto Lo sapete Se l'avete giocato Lo sapete Cosa succede A Henry e a Sam Soprattutto a Sam E No Non è uscito in italiano Ragazzi C'è dopo Dopo una settimana Sì sono uscite Fino alla terza puntata Forse in italiano La quarta e la quinta Ancora non ci sono Ma tanto ragazzi Vi dico Ho provato a guardare In italiano E Cristo Vabbè Ok Non c'è voglia di leggere No no Per carità Il doppiaggio di Joel È decente Perché comunque No Insomma Ma anche Ellie Credo sia la stessa del gioco Solo che Ha portato a Bella Ramsey Comunque detto ciò Dai Basta con sta storia Però C'è proprio polemico Dillo Oh Finalmente Bravo Hai ragione Hai ragione Detto ciò Succede una certa cosa Alla fine Tra Henry e Sam Il problema è che Scusatemi Tra Sam e Ellie Il problema è che Essendo lui sordo muto Nella serie tv Effettivamente C'è questa specie di Comunicazione Frammentata Con questa lavagnetta Dove scrive lui Si parlano scrivendo E spezza veramente tanto Tutto il pathos Che c'era Nel videogioco Almeno per me Poi ragazzi C'è E' vero che va a gusti Perché qui si tratta solo di gusti A me non ha fatto impazzire Quel pezzo lì Non ho trovato necessario Fare un personaggio Sordo muto Però allo stesso tempo Devo dire che L'hanno caratterizzato bene Tra l'altro Le citano da dio I due personaggi Sono identici al videogioco Proprio uguali E Anche più realistici Perché lui si comporta Proprio da bambinetto Di Quanti anni ha Vabbè Un 13 11 No di meno Aveva tipo 11 anni Ellie ne ha 13 14 Lui Ne aveva Ne aveva 11 Se non erro Quindi è anche molto realistico Come atteggiamento Un bambino Che vorrebbe giocare In un mondo post L'opocalittico Quindi insomma Comunque un pochino Represso dalla situazione È tutto il prima Che per me non ha senso Perché continuano A voler Contestualizzare I personaggi A voler fare Un retroscena Dei personaggi Che poi per sé Non porta un cazzo Perché nel videogioco Non era necessario Indovinate perché Non lo dicono Perché non facevano vedere Queste cose Queste introspezioni Dei personaggi Perché non serviva Ma non serve Neanche nella serie Non serve a un cazzo Perché dal momento In cui io so il motivo Per cui Harry e Sam Stanno scappando Dalla città Ma io A me Se tanto so come cazzo Va a finire Cosa succede Con il personaggio Che cazzo Me ne frega E infatti La cattiva Che si è vista Quella Kathleen Che vi dicevo Che si è vista Nella quarta puntata Nella quinta Completamente inutile Ma continuiamo A dire Che è un'opera Tale indescrivibile Che tu manco Puoi capire Continuiamo a dire Che è una scrittura Che è una scrittura Perfetta No ma perché a me Fa incazzare Perché funziona Ve l'ho detto L'ho detto Nell'altra recensione Chiudono gli occhi Chiudono gli occhi E basta Chiudono gli occhi Che figato Però Cristo Ci sono effettivamente Dei problemi Vabbè I problemi Che ci siano i problemi È ovvio Tipo il ticcio Che cambia Che cambia Il ticcio che cambia Prima di essere investito Nella quarta puntata Quella scena E dai dai Non è che cambia No no Semplicemente Che nell'inquadratura Ci sono lui Altri 4 o 5 scagnozzi Poi nella sparatoria Sono in due Non si capisce Cioè vabbè Là è un problema di regia Comunque ragazzi Io non ne parlo Della serie Perché sinceramente Non l'ho vista E non mi esprisco Le cose che non conosco Non mi esprisco Ma almeno la prima puntata L'hai vista Ma guarda No no Ma non mi interessa Delle robe gratis A me Io aspetto Che sia completa Allora pagale No Visto Non voglio né pagare Né prenderle gratis Ottimo Ottimo Nes grazie mille Allora Io vorrei dire una cosa In chat Che non c'entra Con dell'assofasco Penso che si è sollevato Un discorso serio Ragazzi Per un pc da streaming Non l'ho pagata Il 1200 euro Che minchia di cete Che minchia di cete PC da streaming Minimo Da zero Un pc da streaming Minimo 3000 euro Cioè 1200 Con solo la scheda Ragazzi Lui non vi dà del vo Vi dà dell'essi Proprio Sì sì Vi dà dell'essi Sì sì Una legione Basta questo trailer Di fresh E che cazzo Cosa ne pensi Della serie di God of War Eh Eric Sto un po' cacando ad osso Perché Mi par di capire Che Vogliono sì Legarsi ai videogiochi Ma cambiare Allora c'è da dire Che God of War Non so se lo sapete Ma c'è anche un libro Sempre scritto da Cory Baldrog Sulla storia Del primo capitolo Ragazzi Non ne bastano 2000 Sarò indicibile Sì no vabbè ragazzi Ne parleremo dei press Non c'ho voglia di tirar fuori Il solito discorso Eh Hanno fatto anche un libro Su God of War Potrebbe darsi Che magari la serie È il cast Che mi fa cagare sotto Ragazzi È la scelta Dei personaggi Ok Perché bene o male Fatto quello Bene Decentemente Non come Per me Perché io sono Eh Per me Come hanno fatto Con questo The Last of Us Una volta che scegli Un cast adatto Bene o male La storia La puoi anche un po' Modificare perché non vuoi neanche Che sia identica Però se già mi modifichi il cast Già mi modifichi la storia Allora mi stai modificando Tutto il prodotto Capito Quindi insomma Diciamo che Non sono molto fiducioso Sulle serie televisive In generale Dei videogiochi Perché sono videogiochi Narrativi Di per sé Il videogioco racchiude già Un film Racchiude già Una serie tv Racchiude già Tutte le forme d'arti Quindi non serve È un troppo Serve solo per fare soldi Per spillarci Le soldi Che poi in realtà Non è manco un male Voler far soldi No Andrea Però devi aver rispetto Di quello che crei Quindi se già Perché Questo è il fatto Quindi se già tu Mi iscrivi il videogioco In un certo modo E poi dopo vai A scrivere la serie tv Mi aspetto che tu Perlomeno rispetti La tua creazione Non la vai a modificare Perché se la vai a modificare La vai a inquinare Capito cosa intendo dire Secondo me Per carità Per carità C'è Drakman Dietro diciamo Che lo stanno rendendo fruibile Per una serie tv È un po' come fanno Con i libri Che appunto Il film viene cambiato Perché nel libro Non ci sarebbe Tutto quello che c'è nel libro Eh sì C'è questa cosa Però appunto Fa cagare Esattamente L'opera originale È la migliore Andrea Che è? TikTok ha fatto Hello E ci ha bannato Eh ma è ovvio Secondo me Sì perché la gente Deve capire Che c'è sempre una vea di mezzo Non è che se si critica qualcosa La si sta odiando A prescindere No c'è stato Un blast In totale Da chi ha visto il video Della mia critica Alla quarta puntata E non sono Molto Allora il problema Il problema è uno Di quel video lì Che molta gente Che molta gente Che ha blastato Non conosce il canale Non ha capito Che è una clip Preferisco È una clip Estrapolata da live Decontestualizzata Dove magari all'inizio Faceva anche un po' Il caccione A nostro modo Non sanno come scherziamo No no Per carità Ma preferisco così Perché così Si può anche avere Un dialogo Con una critica Molte sono state Critiche costruttive Molte sono state I pensieri Secondo me Non la penso come te Eccetera eccetera Comunque sul rispettoso Ma ci sono stati Dei commenti Veramente ridicoli Del non capisci un cazzo Di qua e di là Di giù Se non sei una cosa Sarebbe meglio Stare gisti Sì no Questi commenti eccezionali Che per me Non hanno molto senso Perché non voglio No che vuol dire Che tu già stai guardando Il video Con l'idea Che devono dire Quello che vuoi sentirti dire E quindi non accetti Un qualsiasi altro tipo di pensiero C'è una differenza E non ha senso Allora non guardarti un video Di pareri personali E recensioni No secondo me C'è una differenza Fra l'illazione gratuita Appunto una persona Che ti dice Faresti meglio Stare zitto O magari una persona Con un tono forte Però fa valere Le sue ragioni Magari uno usa Un tono forte Però ci sta spiegando Semplicemente Come la pensa lui Lì ci sta Cioè non è che ci offendiamo Cioè uno Usa un tono forte Però appunto Entrare in un video Dove uno dice E poi per parere dice Cioè non c'è le cose Faresti meglio E stare muto Un po' Sì sì Sono un po' così Sì siamo in live Da 15 ora Non da 13 Sì ragazzi Siamo in live da 15 ora La prossima horror night Ragazzi sarà Giovedì 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 Ricontinuiamo con le backgrounds Poi tutto durante la settimana Altre programmazioni epiche Vi ricordo di andare su telegram Vi ricordo di andare su instagram Che lì trovate tutta la programmazione Telegram per i sub Ragazzi voi sub avete telegram Io ve lo continuo a ripetere Potete entrare Chattiamo Quando cazzo volete Vi mando i miei bellissimi video Esatto Ma che di notte E niente Valheim questa settimana Non c'è ragazzi Perché sta uscendo un po' di roba E abbiamo dei special guests Quindi questa settimana Ci stanno Valheim per adesso Ci siamo fermati un attimo Tra l'altro Valheim Abbiamo deciso di fare una roba Ossia che D'ora in poi Tutte le giocate Saranno in cooperativa con voi Per Anche per tagliare i tempi Ragazzi Quindi la prossima La prossima live sarà Boss fight sul drago Con voi giochiamo insieme Perciò mi raccomando Pronti Alle armi Cazzuti Che andiamo a fare Il motor Dobbiamo soltanto arrivare Alla boss fight Io troverò un modo Cheat Per arrivare Più velocemente possibile Grazie devo prepararmi Daxin Basta entrare mezz'ora E spammare qualche cheat Ma si è tranquillo Ormai abbiamo il controllo Ci aspettiamo i video dei piedi Perfetto Mi piacerebbe Che uscisse l'aggiornamento Di backrooms De Lost Tapes Perché era davvero inquietante E ansiogeno Ma sai che mi ha trovato più inquietante E ansiogeno questo Cioè nel senso Lost Tape È un'avventura in single player Quindi effettivamente Di ansia ne dava di più Però ansia Questo mi ha fatto cacare sotto Perché stanze buie Non vedi niente C'è sto mostro che ti insegue Ma mi è piaciuto un sacco Il concetto del doppelganger Di un mostro davanti a te Alla quale devi mostrare le badge E poi Secondo me sarebbe stato più figo Se camminava Non farlo correre Perché farlo correre Cioè Subito Cioè te ne accorgi subito Eh te ne accorgi subito Fale un attimo Tipo almeno due minuti vicino Che ti faccia Hello dovi lasciarlo Secondo me Sì esatto Funziona bene Quando sei in quattro giocatori Perché lì in quattro giocatori Non conosce Esatto Vedi le persone Che si muovono in giro Per il pop Magari giochiamo insieme Anche alle backrooms Ragazzi Si possiamo preparare Per fare una giocata insieme Tanto i livelli I livelli ormai fatti Penso che si possa Si Si possano Continuare Da dove abbiamo l'ho mollato Bisogna giocare insieme Quindi ci sta Ci sta Se volete ragazzi Quest'otto euro Magari la prossima Il giovedì Facciamo in quattro No non ci credo Grazie Ops Per la tua fiducia Bestiaccia Ci vediamo domani Le 21.30 Mi raccomando Ospite speciali Io vi ringrazio per tutto Spero vi siate divertiti Questa è la prossima settimana Saranno settimane succulenti Succulenti Succulente Succulente Un succolento Un succolento Una melassa Per gustarsi Ma non riesco a non svappare Io Si tu potresti anche Farlo in maniera un po' più Guarda fai come me Guarda Ah In modo discreto Dici Visto Nessuno si accorge L'algoritmo non sa Non è più inquietante Secondo me è più inquietante Vedere che esce del vapore Non mi me ne frega un cazzo Di cosa più inquietante Per l'algoritmo invece È inquietante vedere te Che inizi a succhiare Del vapore Da una cazzo di macchina Guarda Ma cos'è Un giocatore di poker? Tu dimmi Sembra che ti sta andando a fuoco La camicia Andrea Sembra che ti sei lasciato L'accendino acceso in tasca Sembra che Sembra che L'acido della batteria Del microfono Abbia Abbiamo fatto contatto Draco Draco Vabbè Comunque andrà sai Che per spegnere un incendio Basta Draco Esatto Ci vediamo domani Alle 21 e 30 Bestiacce Vi voglio bene Buonanotte Fate i bravi Fate i buoni Mi raccomando Fate gli uomini Fate gli uomini Fate gli uomini Per specifici Cosi Antti Flano Dotier Dimmi